3, 2, 1, siamo live ben ritrovati su ADC Live, il nostro appuntamento del martedì e giovedì alle 16 sui miei canali Facebook e YouTube naturalmente. Ci sono delle menti in mezzo a noi prodigiose, ci sono delle menti che sono diverse da quelle degli altri e oggi con un ospite veramente speciale che sono emozionatissimo di potervi presentare andremo a scoprire proprio una di queste menti. Ma prima di tutto controllo che tutte le nostre chat siano attive, lancio la mia sigaretta e ci rivediamo qui fra esattamente 4 secondi. Ok 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 YouTube funziona, Facebook si sta avviando, eccomi qua ci state raggiungendo, fatemi un po' vedere, fatemi un po' vedere. Ok ok ok, tutto si sta avviando correttamente. Eccoci qui, si sente bene, 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 ok anche Facebook funziona. Bene, fatemi controllare gli ultimi segnali, tutto è a posto, tutto è perfetto e allora senza ulteriore indugio, senza farvi perdere un altro secondo di tempo, vi presento naturalmente Vanni De Luca. Eccoci qua, ti vedono Vanni, ti vedono tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Ale. Eccoci qua, sono così contento. Allora, naturalmente Sandro che dice subito non potevo mancare, Giancarlo che saluta, Francesco che saluta, cominciano un po' ad arrivare. Come al solito fateci sapere se ci siete da Facebook, da YouTube, il bello come al solito di queste live è anche collaborare con voi. E prima di tutto, prima di ogni altra cosa, lo scrivevo anche nella descrizione del video, sia questa sia quella di ieri, è difficile presentare Vanni perché gli aggettivi, le cose, è molto complicato. Allora, la prima cosa che io ti vorrei chiedere è di presentarti, cioè chi è Vanni De Luca, cosa fa, che personaggio è, così che tutti possiamo finalmente capire da te qual è l'aggettivo giusto con cui nominarti. Eh, diciamo che ho messo in difficoltà per parecchio tempo lo stesso ufficio stampa perché mi ha detto non so assolutamente come fare a promuoverti perché le cose che fai sono talmente tante disparate e arrivano da ambiti diversi che è difficile dare una connotazione singola. Mi rifugio nella descrizione di una persona che sale sul palcoscenico senza fronzoli, senza nessun lustrino, senza vallette seminude, senza trucchi, ma armato dell'unica meraviglia di cui tutti noi siamo dotati che è la mente. Da lì, quando inizio con questo piccolo cappello introduttivo, in realtà altro non faccio che mostrare, sollevare, quindi il sipario della mia Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, facendo un salto indietro nel passato, dove ci sono storie di artisti straordinari che prima di me hanno intrattenuto il mondo usando la memoria, questo che è la grande capacità di calcolo. Ed è quello che faccio io oggi. Ho semplicemente rispolverato un panorama di performance e di performer perché parlo anche delle loro vite e li riporto ai giorni nostri sul palcoscenico condividendoli col pubblico. Direi che è un'introduzione pazzesca e parleremo di tutte queste cose oggi naturalmente. Nel frattempo saluto anche Andrea Muzzi che dice sono come un bambino alle 23.59 del 24 dicembre. Cioè Andrea, che ovviamente è qui, è pronto. Perché Andrea ha buona memoria? Lo dicevo anche nel video ieri, siete un po' come agli antipoli della memoria perché da un lato abbiamo Andrea che è il campione assoluto della memoria rapida, della capacità di imparare grandi quantità di informazioni a breve termine. E dall'altro abbiamo te che invece sei il campione della memoria a lunghissimo termine e dovremo parlare anche di questo. Cose da Nerd ci saluta. Leo che dice è lui, è l'ospite con la barba perché ti avevo anticipato la settimana scorsa. Certo, ovviamente c'è Alessandro, c'è ZC, bene 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 bene. Ok, ok. Allora dopo questa introduzione pazzesca, allora volevo raccontare questa cosa. Noi ci siamo conosciuti prima di tutto online. Ci siamo chattati un pochettino, poi abbiamo avuto l'opportunità a ridosso del CICAP Fest che è un evento chiaramente pazzesco, bellissimo, che è organizzato dal CICAP, Massimo Polidoro e tutti gli altri. Sergio Della Sala, poi c'è Piero Angelo eccetera, si svolge tutti gli anni a Padova. Abbiamo colto l'occasione per incrociarci, conoscerci, siamo andati a mangiare un tramezzino o qualcosa del genere. E da lì veramente ci sentiamo costantemente ed è stato proprio un rapporto che è fiorito immediatamente. E una cosa che però mi ha sempre incuriosito e che ti ho chiesto solo fino a un certo punto in realtà nelle nostre conversazioni private, perché me lo volevo tenere per questo motivo, è proprio come sei partito. Perché una strada come la tua, che è di sicuro una strada particolare, su questo potranno convenire tutti, da dove parte? Cioè a un certo punto mi immagino il Vanni, non so, diciottenne che dice adesso voglio fare il mnemonista o il mentalista. Cosa è successo? Ah, guarda, in realtà ci hai beccato anche benissimo perché è successo esattamente a diciotta anni. Come tutte le cose belle che sovente in maniera serendipica ti arrivano nella vita, non era previsto nulla di tutto ciò. Quindi niente di quello che avrebbe potuto scrivere cocciante nella canzone, era già tutto previsto. Anzi, anzi, è stato tutto improvvisato. Poi mi ci sono ritrovato talmente dentro e talmente innamorato che ho deciso di farlo diventare l'unico lavoro e secondo me, però, sono di parte chiaramente il lavoro più bello che si possa desiderare. L'idea è che ho iniziato a diciotta anni perché sembra non avere nulla a che fare, però in realtà io mi stavo allenando per gli italiani di judo e volevo arrivare a ottenere la cintura nera che poi mi avrebbe permesso, vincendo i nazionali, facendo anche degli allenamenti, in questo caso particolari, di poter entrare in nazionale e nella mia testa c'era l'idea di diventare un campione olimpico. Avevo visto la vittoria di Pino Maddaloni della scuola di Scampia, di Gianni Maddaloni, suo papà. La storia, fra l'altro, arrivano da un quartiere particolarissimo di Napoli, hanno una storia pazzesca alle spalle. E il riscatto di questo ragazzo mi ha fatto venire voglia, questo all'età di 13 anni, di indossare il judo oggi e di diventare anch'io, chissà, forse un giorno un campione. Proprio a 18 anni mi stavo allenando per entrare nelle fiamme oro, io volevo proprio entrare nelle fiamme oro. Avevo quello nella testa, anzi, ci tengo a precisarlo perché andavo male a scuola. Per andare bene a judo andavo male a scuola perché mi allenavo 6-7 ore al giorno con parti di pesistica. Insomma, un allenamento vero e proprio andavo male. Cosa non fatelo, non bravi. Cosa vuole parleremo anche di scuola. Ci tengo a precisarlo. Questo però per abbattere la prima cosa che la gente mi dice è che tu sei nato con la predisposizione. Non sono nato con una predisposizione mnemonica, sicuramente è una memoria selettiva. Come tante persone, memorizzo meglio le cose che mi appassionano. Appassionarsi di tante cose significa essere in grado di memorizzare più facilmente tante cose. Ma tornando all'evoluzione, mi sono infortunato a 18 anni. Il mio UK, che tecnicamente è la persona che nel judo riceve la tecnica, il mio migliore amico ancora oggi, Moreno, mi è caduto col ginocchio sulla spalla sinistra. Ho completamente perso cuffia dei rotatori e in un qualche modo a Rozzano, nell'istituto clinico Manintas, hanno provato a mettermi a posto quella. Ce l'hanno fatta perché non riuscivo a sollevare il braccio più di tanto così. Ora forsemente riesco a farlo, questo accadeva 10 anni fa. Alla fine poi è stato un periodo abbastanza nero, ma adesso arrivo a come sono entrato in questo periodo nero. Ti fermo, ti fermo solo un secondo. Rispondiamo alle domande fra una cosa e l'altra. Quindi aspettate un secondo che poi vi rispondiamo naturalmente. Vai, vai, vai. Uscito dal periodo nero. Certo, certo. Sto arrivando proprio al momento in cui ho fatto lo switch. Era un periodo nero perché per me era come se fosse morto il mio miglior amico non poter più fare judo perché il dottore me l'aveva sconsigliato alla grande di fare agonismo. Allora ho iniziato a guardare i programmi su Sky, quello che proponeva. All'epoca c'era il Guinness dei primati. Ho guardato la performance ancora presente su YouTube di Dominic O'Brien, otto volte compione mondiale di memoria, che ha memorizzato nel giro di pochi istanti, credo un paio di minuti. Non vorrei riportare un dato sbagliato. Comunque in poco tempo ha memorizzato 50 oggetti chiamati uno dopo l'altro. Quindi numero uno, questo, numero due, quest'altro, quest'altro ancora. E li ha richiamati tutti, nell'ordine, in ordine crescente, in ordine decrescente, in ordine sparso. Il fatto è che era bendato, non ha letto nulla, gli oggetti li ha solamente memorizzati ascoltandoli eppure li ha saputi richiamare. Io mi sono chiesto fin da subito che botta in testa ha ricevuto questo signore e a che età. Quando gli è stato chiesto come ha fatto, lui ha risposto semplicemente, eh beh, sono tecniche antichissime, io tutti i giorni mi alleno e quant'altro. Allora mi sono detto, caspita, io posso prendere quella capacità del judo, dell'essere determinato nel fare le cose, essere un monastico, e riversarla sulla palestra mentale anziché quella fisica. Così è stato e da lì ho cominciato. Tra l'altro questo è un tratto comune, tra l'altro. Io ascolto molto spesso anche storie di non solo atleti, ma anche per esempio io sono un grande appassionato di magia, eccetera, eccetera. E c'è sempre questo elemento. Tantissimi raccontano di momenti specifici in cui hanno visto un'esibizione di qualcuno che li ha talmente colpiti che qualcosa è cambiato e che hanno sentito come la necessità o la voglia di buttarsi su una nuova disciplina, no? C'è sempre quindi l'idea che è anche l'esperienza di vedere qualcuno che fa qualcosa di straordinario che ci ispira a fare lo stesso. Infatti mi è venuta una domanda mentre parlavi. Ci pensi ogni tanto che potrebbe succedere lo stesso a qualcun altro, no? Potrebbe qualcuno venire al tuo spettacolo, vederti in tv, vederti il tuo TED Talk o qualcosa del genere e dire, oh, voglio essere anch'io come lui. Magari un ragazzino di 15 anni, che ne so che sarà il prossimo Vanni De Luca o il prossimo Andrea Muzzi o chi per lui. Ci pensi mai al fatto che quello che fai potrebbe avere anche un impatto, no? Sulle persone che ti guardano? Guarda, ci ho pensato nel momento in cui me l'han dichiarato perché è successo ed è stato meraviglioso. Uno, un ragazzo che è venuto a vedere Prodigi ed è diventato bravissimo nella risoluzione del cubo di Rubik è l'unica cosa che è una delle cose che ha preso dal mio spettacolo teatrale dove io risolvo anche il cubo di Rubik fra le tante cose e ha iniziato a risolverlo e mi mandava i tempi su Instagram. Devo dire che è diventato veramente molto bravo, anche più di me perché io non mi sono specializzato nello speed solve così come non mi sono specializzato nella memorizzazione rapida delle informazioni come dicevi tu prima, che è una cosa che riguarda più Andrea Muzzi nel nostro caso. però mi mandava i tempi di solve ed è quando è arrivato a 17 secondi ho detto complimenti cioè è passato qualche mese quindi sai tu fai la tua vita e di tanto in tanto una volta al mese ti arriva puntualmente questo screenshot su Instagram mi dicevo questo nel giro di quattro mesi è passato le sei mesi credo da due minuti a 17-18 secondi fatto stare, era il suo best e me l'ha subito girato lo stesso vale per quelli che poi iniziano magari a memorizzare qualcosa o anche solamente appassionarsi alle storie di questi straordinari artisti che sono vincolate, chiuse all'interno di un qualche libro di arti circensi e sbattuto in qualche biblioteca oscura, poverosa della National Library sì, o anche degli infernotti non so, di qualche biblioteca delle arti circensi e non solo e quindi del teatro e quindi diciamo che ricevere questi messaggi fa sempre un grande piacere anche perché lo scopo con cui ho fatto nascere questo spettacolo è stato quello divulgativo inclusivo condividere queste storie di fatti il mio spettacolo teatrale non si chiamava prodigio si chiama prodigi io parlo di altri poi provo in un qualche modo nel sentiero drammaturgico di quello spettacolo a infilarmi l'e mezzo ma poi è sempre compito del pubblico stabilire se sì o no mi sono guadagnato un posto sul podio è sempre compito del pubblico non posso farlo da solo però nel farlo nel farlo faccio vedere quali grandi performance erano in grado di portare in scena questi uomini a proposito di performance c'è Cose da Nerd che è un ragazzo di 16 anni che mi scrive spesso che dice Vanni ho una facilità enorme a memorizzare cifre numeriche ho una memoria numerica esiste quindi una predisposizione ti si chiede perché questo ragazzo dice l'ho sentito varie volte che non usa tecniche mnemoniche lui legge i numeri e se li ricorda tu parlavi dell'allenamento esiste anche il talento cioè ci sono persone che si svegliano la mattina e sanno fare ci sono anche quelli sì esistono queste persone c'è stato un confronto bellissimo tra me e un altro ragazzo perché bisogna anche capire se hai voglia di condividere anche la risposta in che modo le memorizzi cioè qual è il processo che utilizzi perché se ti entrano in testa così senza che tu ci pensi ti faccio un applauso con tutti gli arti perché è una questione che davvero sta mette in crisi tantissime persone da diversi secoli quella della memorizzazione di informazioni a carattere transitorio e soprattutto numeriche che sono particolarmente complessi invece ho avuto una conversazione con un mio caro amico fra l'altro conosciuto al corso di indagatori di mistero di CICAP meraviglioso meraviglioso è grande corso tutti andate a iscrivervi al CICAP e al corso di indagatori e tra l'altro questa 2019 deve essere a Milano il prossimo o a Bologna no a Bologna ho sentito Massimo Polidoro dire a Bologna può essere a Bologna sì a Bologna perché a Milano l'hanno fatto quando l'ho fatto io l'anno scorso due anni fa l'anno scorso a Roma e quest'anno probabilmente a Bologna e ho conosciuto questo ragazzo di nome Tobia che suona la batteria uso sempre l'imperfetto ma in realtà suona la batteria e il Tobia mi raccontava che la partitura della batteria prevede dei numeri ogni numero identifica un oggetto da colpire che può essere il Tom piuttosto che il Rullante piuttosto che il Charleston e allora lui mi diceva che quando deve memorizzare una serie numerica lo fa suonandosi in testa che ne so cassa cassa Charleston Rullante è una tecnica mnemonica ma di fatto è una tecnica mnemonica esatto quindi se hai un talento sfruttalo al massimo altrimenti sarebbe bello fare il contrario cioè io che chiedo a te quale strumento perché sono un curiosone di base quale quale processo cognitivo ti si accende in testa quando memorizzi un numero quello è bello e poi ti chiedo da dove sei di dove sei Napoli dicono addirittura Napoli io vi ringrazio perché la gioia partenopea mi attraversa da capo a piedi però in realtà sono di Pavia sarà il fatto che ho dei genitori meridionali un pugliese e una messinese magari dai più o meno regno delle due Sicilie facciamo Napoli dice Sandro hai parlato di Napoli e Scampia a proposito ma secondo te quanto ti ha aiutato conoscere e vivere questa realtà cioè dice tu sei stato anche in questi in questi luoghi eventualmente hai anche andare in giro te la giro anche in un senso un po' più ampio la quantità enorme di viaggi che fai perché noi ci sentiamo sempre tu sei sempre su un treno su un aereo da qualche parte tutti questi viaggi queste esperienze in giro ti hanno aiutato a crescere e a coltivare i tuoi molti talenti di cui parleremo fra poco oppure invece alla fine è tutto a questione di stare nella tua cameretta a studiare sbatterci la testa sono entrambe le cose innanzitutto mi piacerebbe tantissimo andare alla palestra dei Omae il maestro Gianni Maddaloni perché ancora non ci sono stato per me è un po' come la Mecca potete immaginare devo ancora andarci la scuola è ancora attiva ospita un sacco di ragazzi che non possono neanche permettersi la retta ed è tutto sulle spalle della famiglia Maddaloni che davvero sta facendo un lavoro straordinario anche per rimettere in carreggiata ragazzi che hanno avuto un passato molto difficile e lo fa attraverso il judo o comunque un'arte che prevede il fatto di mettersi con impegno a fare una certa cosa come l'arte della memoria nel nostro caso i viaggi per arrivare ai viaggi che faccio ripeto sono entrambe le cose perché uno si prepara tanto tempo in cameretta su un set specifico di capacità e di competenze poi però bisogna misurarsi con due realtà la prima è il pubblico non necessariamente quello che intrattiene te a casa poi intrattiene il pubblico quando sei sul palcoscenico anzi molte volte il contrario o comunque non è quello che ti aspettavi e allora devi sempre portarti dietro da casa una capacità di ascolto una sorta di non so una sorta di scatola dove mettere tutti i commenti costruttivi che ti dà il pubblico riportarli a casa e lavorarci sopra e si riparte sempre dalla cameretta chiaramente però fuori si ha la cartina tornasole e la stessa cosa si ha quando ci si esibisce accanto ad altri performer da qualche anno a questa parte io sono 13 anni ho 31 anni ho iniziato a 18 sono 13 anni che faccio questo che esercito quest'arte anche se solamente da 5 barra 6 è diventato il mio unico lavoro la mia unica professione e ho avuto il piacere di confrontarmi con persone provenienti dagli ambiti più disparati gioccolieri trapezisti gente del varietà che sai non hanno magari niente a che fare con la memoria però sanno esattamente come fare a creare all'interno di un aspettatore dello spettatore una curva di un certo tipo fatta di aspettativa di tensione di gioia di condivisione del dolore che stai vivendo tu sul palcoscenico in mezzo al insomma col tuo cervello che va mille e allora tutti questi consigli anche questi vanno presi vanno messi in questa scatola quando si torna a casa ci si lavora tanto sopra quindi è entrambe le cose vediamo cosa vi dice ah dice Sandro che anche lui viene da un quartiere di periferia di Palermo e aiuta anche lui dei ragazzi per prevenire la dispersione scolastica e io qui io qui devo dire non so come la pensi tu Vanni ma penso di sapere come la pensi penso che quella della dispersione scolastica sia uno dei problemi più enormi che il nostro paese ha da affrontare e penso che chiunque attraverso lo sport il doposcuola qualsiasi tipo di attività anche il catechismo qualunque cosa anche per uno che non è particolarmente credente come sono io ma chiunque faccia qualcosa per tenere questi ragazzi vicini alla cultura alla scuola li aiuti a non perdersi in quartieri appunto dove c'è la malavita eccetera eccetera è un vero eroe ed è l'eroe l'eroe della nostra cioè il nostro paese ha bisogno di gente che aiuti i ragazzi a non disperdersi io per me è una cosa sono sono assolutamente d'accordo Sandro sta facendo sicuramente un lavoro straordinario parlo d'agnostico io sono cresciuto all'interno di un oratorio di un paese di 600 anime devo ringraziare il dono ma non come rappresentante della chiesa ma come uomo anche come aggregatore sociale certo come educatore certo che tutti bravissimo esatto la parola è quella educatore perché chiunque potenzialmente può esserlo chiaramente rispettando un'etica una morale però chiunque potenzialmente può prendere questi ragazzi e attraverso un percorso particolare portarli verso un percorso salvifico il discorso è che stavo un attimo perdendo il filo del discorso è che sì io ad esempio sono cresciuto all'interno di un oratorio e ne sono felice lo stesso Gallimberti ecco volevo citare Gallimberti Gallimberti stesso dice che le scuole dovrebbero rimanere aperte tantissimo tempo i ragazzi al loro interno dovrebbero giocare a ping pong dovrebbero creare dei gruppi di condivisione continua perché l'investimento più bello che possiamo fare è davvero creare inclusione per questi ragazzi i posti dove possono ricrearsi trovarsi condividere sperimentare giocare con quello che sperimentano altrimenti da una parte è vero la dispersione scolastica però anche il pensare ragazzi io vi dico una cosa non subite la scuola come un'imposizione a carattere verticale perché non lo vuole essere per antonomasia alle volte di mezzo ci sono delle istituzioni ma anche banalmente il professore se non ti passa bene la materia avete una responsabilità anche voi però di un certo tipo del dover portare a casa quello che serve a voi perché non è sempre responsabilità degli altri però insomma date il vostro contributo se volete cambiare le cose fate come Sandro ad esempio è lui che si mette in gioco lui tutti i giorni con questi ragazzi magari non ha nessuno che gliel'ha chiesto non gliel'ha chiesto nessuno ma è lui tutti i giorni che va e fa qualcosa per loro di tornando invece un po' alla memoria c'è ZC che dice questa è una domanda difficile so già che sarà difficile rispondere ma potresti elencare tutte le tecniche di memoria che conosci oddio in realtà sai poi le tecniche di memoria sono due o tre rami che poi si riamificano i rami sempre più piccoline foglioline e quant'altro dipende sempre dall'utilizzo che ne vuoi fare ma tutte le tecniche di memoria ma lo posso dire con anche grande certezza perché Alessandro lo sa sto facendo un lavoro di recupero storico dell'evoluzione delle tecniche di memoria eh sì lo so lo so ci sono scritti e trattati che parlano ad esempio dal 1600 fine 1600 e arrivano ancora oggi e noi oggi usiamo tecniche ad esempio come la conversione fonetica che è qualcosa che è nata 400 anni fa poi ha avuto mille evoluzioni c'è la conversione fonetica c'è d'altra volta scusa se vi interrompo a volte c'è c'è anche confusione sulla nascita ne parlavamo l'altro giorno su whatsapp si parla sempre di Leibniz per la conversione fonetica ma poi se vai a cercare le fonti non si trova niente su Leibniz non c'è un trattato di Leibniz non c'è un incunabolo non trovo niente io sto cercando se qualcuno lo ascolta lo sa datecelo per favore io stesso avevo sempre sentito questa cosa che Leibniz è la conversione fonetica poi però quando vai a cercare trovi Pierre Rigon non trovi Leibniz allora anche lì l'origine delle mnemotecniche a volte è un po' un po' fumosa non è neanche facile fare questo lavoro storico da un certo punto di vista sì non è per nulla facile lo posso davvero dire con grande enfasi insomma non è facile per nulla però ecco sicuramente la più antica quella già pubblicata sulla retorica Caio e Regno dove non si sa chi fosse Caio e Regno a cui era dedicato il testo non si sa chi ha scritto il testo si dice Cicerone però insomma l'attribuzione è fumosa anche lì esatto non è verificata però insomma i palazzi della memoria i loci attribuiti a Cicerone poi tante tecniche sapete si creano sul momento eh questa è una cosa importante schedari mentali sì esatto proprio l'idea di improvvisare davanti al tipo di informazione perché altrimenti il rischio è quello di far entrare per forza di cose un'informazione che è rotonda all'interno di una scatola quadrata se invece noi riusciamo a smussare gli angoli della scatola per fare in modo che il contenuto ci possa stare dentro nella maniera più efficiente possibile forse è meglio fare quel questo è qualche cosa che tra l'altro è assolutamente riconducibile anche alla questione metodo di studio ed è uno dei cuori di quello che io cerco di insegnare sempre non dovete fissarvi sulla tecnica molto meglio padroneggiare il principio che sta dietro alla tecnica così che poi nel momento in cui la tecnica per qualsiasi motivo non si adatta a quello che voi state studiando voi avete il principio e ne create una nuova ne create una vostra interpretazione una vostra modifica con le tecniche di memoria mi ricordo mi è capitato una volta di dover memorizzare che ne so dei fumetti io non avevo mai memorizzato le costine dei fumetti non avevo studiato la tecnica per le costine dei fumetti mi sono dovuto inventare un modo ho usato una combinazione di tecniche quindi anche questo è importante tra l'altro c'è Leo che fa un'osservazione divertente a cui in realtà prima risponderò io poi ti chiederò la tua opinione dice Vanni è il judo Andrea è il pugilato ADC è il muay thai c'è un legame tra abilità cognitiva e interesse nelle arti marziali io dico la mia secondo me no non è che c'è un legame tra questo però c'è una somiglianza nella struttura mentale che ti porta a eccellere in una cosa e nell'altra perché serve la costanza serve un po' di ossessione un minimo di ossessione ci vuole serve la disciplina e serve anche l'interesse secondo me questo è fondamentale in entrambe le aree al perfezionamento che è una predisposizione che non tutti hanno cioè l'idea che non ti basta saper fare una cosa la vuoi fare sempre meglio la vuoi affinare sempre di più finché non è non dico perfetta perché è una parola se non è sbagliata però finché non è almeno tendente alla perfezione no cosa ne pensi secondo me sono queste le vere somiglianze sono d'accordissimo con te anche e unisco la cosa che stavi dicendo prima sul principio nel judo l'idea è quella di portare a terra l'avversario facendolo proiettandolo si dice così lanciandolo nella maniera più pulita possibile per raggiungere quel risultato ci sono tante tecniche se però io vado sul principio della tecnica ovvero che quello di ricevere in maniera molle il movimento dell'avversario per sfruttare poi dopo un suo squilibrio con un principio di leva per poterlo proiettare quello è il principio io devo sfruttare una leva per se poi la tecnica non è proprio quella ma è una cosa che si avvicina perché in quel momento la leva che dovevo usare era la migliore non richiamava quella tecnica allora io mi sono adattato alla situazione invece posso dire che secondo me è un po' come Duncan McLeod nato 400 anni fa nelle islands della Scozia alla fine ne resterà soltanto uno affitteremo un ring un palazzetto ci metteremo io Andrea e Alessandro faremo una roga rumble ma io perdo selvaggiamente però io perdo selvaggiamente bene 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 tra l'altro c'è un concetto simile in realtà perché io ho fatto anche judo ma da ragazzino e poi ho praticato anche un po' di aikido e c'è un concetto simile nell'aikido il Morihei Ueshiba il fondatore il sensei diciamo così il vero l'inventore dell'aikido diceva sempre una cosa del tipo che l'aikido deve sgorgare dalla sorgente infinita che cosa voleva dire voleva dire che si tu ti impari le tecniche ma poi il maestro di aikido è quello che inventa la tecnica sul momento cioè che padroneggia così tanto il principio che non sa neanche più lui che tecnica sta facendo fa quello che è giusto è come se paradossalmente il massimo livello di costruzione e di studio diventi la spontaneità cioè diventi così bravo che diventi inconsapevole addirittura di quello che stai facendo mi trovo perfettamente d'accordo della stessa cosa che trovi con grande verità nel teatro ci si esercita una vita con tante tecniche tanti approcci eccetera in realtà quello che stai indirettamente la competenza che stai un po' consapevolmente un po' no esercitando è la capacità di ascolto sul momento nel cui è ora una mindfulness e poi alla fine quando sei in scena con un altro attore se quell'attore lì quella sera non è perfetto oppure è un drago oppure che ne so gli è morto il gatto la sera prima non porterà in scena quella cosa che hai provato per un mese porterà in scena sarà un'altra roba ma tu devi reagire su quella roba nuova là però tutto il percorso preparatorio che hai fatto prima ti ha portato a essere pronto a improvvisare davanti a quella novità eh sì fantastico come diceva Dario Fogli improvvisazione non si improvvisa bellissimo questa è una frase non l'avevo mai sentita ma è profondissima tra l'altro molto profonda ci chiedono come può un ricordo passare dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine Vanni come si fa? eh oddio non sono un neuroscienziato però ma neanche lo era Cicerone in realtà neanche lo era Quintiliano semplicemente osservandolo semplicemente utilizzando l'osservazione hanno compreso che tutto ciò che emoziona tutto ciò che sconvolge l'ha scritto anche Pietro D'Aravenna nel suo trattato della Fenice la memoria artificiale consigliando di mettere delle vergini nude sugli scordi dei palazzi della memoria ma lo faceva solo per motivi scientifici assolutamente ma di fatti lui aveva scritto anche una una sorta di un paragrafetto a qualche riga di scusa dicendo chiedendo scusa agli uomini casti e puri dell'epoca non me ne vogliate ma sappiate che se fate questo funziona funziona meglio alzato le mani quindi in realtà poi questo è estremamente vero quindi diciamo che è molto più facile sono due cose la prima è molto più facile prendere una parola chiave un numero convertirlo in qualcosa di tridimensionalmente seducente per la nostra mente attraverso l'emozione renderlo paradossale metterlo in movimento l'acronimo famoso che viene chiamato PAV paradosso azione vivido però è anche vero che tante cose per quello già più il mio campo per farle continuare a rimanere nella testa hanno bisogno di qualcosa che è molto più vicino a un metodo di studio che non ha una semplice applicazione di una tecnica mnemonica la tecnica mnemonica ti aiuta a rendere più digeribile ecco forse ma il fatto di ricordarla per lungo nel tempo prevede non so un quello che viene chiamato spaced repetition system per la curva dell'oblio ti fermo perché c'è la domanda a proposito ti dice io non leggo le domande le leggo io ti faccio io da filtro tranquillo che metodo di ripasso usi per utilizzare per il materiale che memorizzi lui dice Alessandro è un sostenitore del Leitner io utilizzo il metodo Leitner ma in generale tutte le varie ripetizioni programmate tu come ti sei organizzato allora tra l'altro ti aumento la domanda perché voglio questo è un tema su cui volevo battere tantissimo oggi lungo termine cioè quello che io da quando la prima cosa che mi hai raccontato che mi ha affascinato tantissimo è proprio la la quantità di importanza nel tuo lavoro dedicata proprio a mantenere le cose che sai ecco vorrei che tu spiegassi raccontassi a chi ci segue quanto è importante mantenere per te e come lo fai ok nell'ordine mantenere per me è importantissimo perché intrattenere con la memoria è il mio unico lavoro eh sì ho deciso purtroppo per me ma per fortuna anche da un'altra parte di mettere a memoria cioè di decidere di portare in scena delle performance che richiedono una preparazione a monte alle volte anche di sei mesi un anno e solo per la preparazione cioè prima ancora che tu la provi anche davanti al tuo migliore amico per vedere se gli piace un anno di tempo mamma mia poi devi mantenerla perché un conto è ho tosato il prato però poi l'erba ricrescerà e lì il discorso diventa che devi iniziare a pianificare già nell'anno in cui tu stai decidendo di portare in scena quel numero è deciso il metodo mnemonico migliore da utilizzare per memorizzare che ne so la tavola la tavola periodica degli elementi di Mendeleev piuttosto che la smorfia napoletana cioè un insieme di informazioni mentre studi quelle nuove devi chiaramente andare a ripassare quelle vecchie quindi anche io utilizzo sistema Leitner sicuramente quello è fondamentale e poi ci sono dei piccoli degli stratagemmi qua e là faccio riferimento a non so dei siti internet come random.org che genera delle sequenze casuali numeri interi casuali con cui io posso giocare tantissimo perché gran parte delle cose che so fanno riferimento a degli schedari mentali numerici un po' come se fossero degli archivi numerati ci chiedono di Ankydroid per esempio Ankydroid Ankydroid la uso tantissimo uso Ankydroid uso a parte non so Memory Ladder che però quello è già più forse una cosa da muzzi perché è da memory athlete Ankydroid ma davvero uso tanto random.org oppure delle schede che già mi ero mi ero preparato ma sono vecchie scritte a mano per poter ripassare di tanto in tanto quel determinato palazzo della memoria perché dentro quelle informazioni poi i periodi di ripasso dipendono tantissimo dal mio calendario ah beh certo perché con gli spettacoli bravissimo perché non sempre io porto le stesse performance capita che mi chiamino anche per fare un numero per fare un intervento di dieci minuti come quello che mi avevi raccontato in Grecia sono andato in Grecia sì sono andato in Grecia per un cliente importantissimo mi hanno chiesto un intervento di nove minuti però per quell'intervento di nove minuti io ho dovuto ripassare a casa una settimana eh certo e il fatto di ripassare quella settimana mi ha impedito di fare altri spettacoli quindi devi sempre far mettere davvero tenere una bilancia importante e l'unico modo per farlo è quello di pianificare bene anche i ripassi i ripassi programmati ma programmati veramente come Dio comanda quindi anche quando hai quel quarto d'ora di tempo ti dici ok dai ripassiamo tutte le metropolitane tutte le fermate della metropolitana di Milano che ci sono altre cose e però sono 161 fermate le ripasso ok l'unica cosa che poi la sommatoria di tutti questi ripassi mi portano a passare attorno alle 6-8 ore al giorno a fare solamente quello perché magari mi concedo anche vado in palestra alzo i pesi però mentre alzo i pesi mi dico che ne so 1 idrogeno 2 elio 3 litio una volta mi hai iscritto tipo una roba tipo adesso adesso torno a ripassare non so se erano i canti della commedia o shakespeare che cos'era stavamo scrivendo adesso basta che torno eri in treno adesso torno a ripassare non so cosa stavi ripassando eri in treno per trieste non lo so ecco ad esempio adesso anche il copione che ho uno spettacolo a trieste dal nome waltzer per un mentalista adesso parliamone subito visto che ci sei nuovo spettacolo ok scusa non volevo anticipare nulla c'è una scaletta ci siamo dati come ordine restrittivo quello di andare veramente a sensazione ma si una conversazione spontanea a me piace è una piccola parentesi però le interviste quelle troppo strutturate mi annoiano tantissimo mi rompo le balle per cui parliamo come parleremo veramente tra amici e via eh guarda ma ti ringrazio tanto anche perché ti parlo dal punto di vista dell'intervistato quando l'intervistatore ora ti sto chiamando intervistatore ma quando l'intervistatore fa una domanda perché ha ascoltato quello che ha detto l'altra persona non c'è niente più bello da questa parte e la cosa più brutta è invece ma adesso passiamo alla prossima domanda ma no ma approfondiamo caspita qua c'è tutto il tempo che vuoi possiamo andare avanti fino alle nove di stasera passiamo alla prossima domanda no quindi è bello così il nuovo spettacolo che tra l'altro io non vedo l'ora di vedere allora che cos'è quando debutta dove compriamo i biglietti tutte queste cose meravigliose allora si chiama si chiama waltzer per un mentalista e debutterà al teatro stabile il Rossetti di Trieste il 21 novembre e la prima tranche finisce il primo dicembre quindi dal 21 novembre al primo dicembre fra una settimana dieci giorni circa il lunedì chiaramente escluso fateci riposare almeno un giorno e poi dal 2 al 12 gennaio questo queste sono le repliche di waltzer per un mentalista per gli anni 2019 2020 c'è una storia che nella stagione teatrale 2020 2021 siccome è prodotto da un teatro stabile lo spettacolo non possa potrebbe tornare certo fare il giro dell'Italia negli altri stabili e questo vorrebbe dire che potrei anziché aspettare che voi veniate da me a Trieste anche perché è distante anche per i triestini Trieste possa venire io da voi ma che cosa ci puoi raccontare di questo spettacolo perché io ho letto la sinossi e mi ha subito colpito però non so quanto si può dire quanto non si può solleticaci per farci venire voglia di venire a vederlo allora da mnemonista vi faccio lavorare con le immagini quindi immaginate immaginate di trovarvi siamo nel 1919 siamo all'interno di un frenocomio di Trieste quindi un ospedale psichiatrico e c'è un paziente di nome Nemo che sono io e paradossalmente però Nemo è uno smemorato non ha memoria quindi io interpreto la parte dello smemorato e attraverso questo spettacolo meglio ancora non sono solo in scena grazie all'interazione con due bravissimi attori Romina col basso che ha fatto un percorso al silvio d'amico a Roma e Andrea Germani col piccolo di Milano due attori della compagnia dei rossetti di Trieste interpretando entrambi lei la dottoressa Marta Bernard che mi accompagna in un percorso di recupero della memoria ed invece Andrea è mio compagno di stanza in questo spettacolo c'è una parte teatrale importante quindi io in realtà metterò delle performance chiaramente altrimenti non avrebbero chiamato me avrebbero chiamato un attore molto più bravo di me e non ci vuole molto ma io metto letteralmente le performance al servizio di quello che è il sentiero drammaturgico ed è questo la domanda che ci siamo fatti è chi siamo noi è una domanda potente è una domanda a cui ancora nessuno probabilmente ha trovato grande risposta noi ne diamo una piccola interpretazione attraverso questa risposta ovvero noi siamo i nostri ricordi se noi vediamo i nostri ricordi quindi la nostra memoria se noi mettiamo la memoria al centro delle nostre vite e proviamo a sfilarla crolla tutto il palazzo non sappiamo chi siamo perché siamo qui cosa abbiamo fatto ieri cosa vogliamo far domani chi sono le persone con cui interagiamo quindi il percorso che mi proporrà la dottoressa Marta Bernard mi aiuterà a recuperare la memoria per stupire il pubblico che in realtà il pubblico alcune volte sarà pubblico alcune volte cambierà forma inconsapevolmente perché comunque c'è dell'interazione e dall'altra parte invece quindi pian piano Nemo recupera i ricordi fino a capire chi è realmente e quando capisce chi è era meglio saperlo o meglio no venite a teatro per capirlo ah beh bellissimo tra l'altro Nemo in latino significa nessuno no per cui è un nome è un nome evocativo per una persona che non ha una memoria no perché proprio quello che dicevi tu senza memoria non siamo niente no ci mancano le basi filosoficamente la esatto la domanda che ci facciamo lo spettacolo è scritto da Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli degli Oblivion un gruppo teatrale che in Italia sta andando veramente la grandissima da dieci anni a questa parte riscuotano un sacco di successo quest'anno portano a teatro la Bibbia riveduta e scorretta vi consiglio di andarle a vedere perché c'è davvero tanto 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 da ridere sono degli attori di musical davvero sensazionali Davide e Fabio fra l'altro hanno scritto insieme a me anche Prodigi ed è stata una conferma perché il lavoro l'abbiamo fatto sempre assieme invece in questo caso per quanto concerne Valzer per un mentalista io vado solamente come performer non ho toccato nulla benissimo e se tu invece volessi proprio aiutare gli altri a fare questo percorso mi ci collego perché unisco due domande dal pubblico c'è Elia che ti chiede dove hai studiato queste tecniche libri ricerche su internet e ZC che dice consigli su come migliorare quindi esercitazioni particolari eccetera quindi se tu fossi la dottoressa e dovessi prendere un Nemo qualsiasi come siamo noi e dirci come fare per migliorare la nostra memoria per diventare dei maestri di Mnemonica tecnica di Ars Mnemonica come te cosa consiglieresti qual è stato il tuo percorso e come lo potremmo seguire anche noi io la mia dottoressa Marta Bernardo l'ho avuta realmente nella vita e ha un nome si chiama Mariano Tomatis grandissimo Mariano tra l'altro personaggio eccezionale Mariano è veramente una persona che si fa fatica a dire se dovesse avere non so devi misurare la capienza se lui fosse un contenitore e dovessi misurare nella capienza non riusciresti con nessuno strumento di misura a capire dov'è il fondo perché Mariano è tanto è tanto ed ha tanto soprattutto tant'è che è stato proprio lui nel 2010 io ho un problema con la luce tu continui a parlare ma io ho un problema con il mio fare eccolo qua vedi che ho un problema sono oscuro c'è qualcosa che non va con il mio faro però tu intanto continua a parlare io metto a posto fantastico ok vi dicevo quindi Mariano è la persona che mi ha letteralmente preso dalla strada perché io facevo il venditore di case all'epoca parliamo addirittura si facevo una altra carriera e Mariano l'ho incontrato per strada a Torino e abbiamo iniziato a conversare mi ha detto che stava scrivendo un libro dal titolo te lo leggo nella mente mi ha passato la storia di questo Henry Khan che era un multitasker di inizio secolo mi sono appassionato della storia di Khan ho letto il suo libro ho pubblicato un libro dal titolo il multiple mentality course quindi il corso delle mentalità multiple fantastico da lì poi ho cominciato a esibirmi e da una parte è stato bellissimo perché vabbè avevo due lavori non potevo neanche chiamarlo un lavoro io avevo il lavoro principale che era fare la gente immobiliare mi divertivo anche a memorizzare i nomi sui campanelli i numeri di telefono delle persone d'altro canto invece poi la sera mi andavo a esibire sul palcoscenico toglievo la spilla la cravatta e salivo sul palco il fatto è che poi quando mi è piaciuto così tanto esibirmi mi è piaciuto sempre meno vendere le case perché non era proprio il mio vendere e dire a una persona guarda ho capito che tu hai buttato vent'anni della tua vita in questo appartamento però sono 50.000 euro in meno ecco a me a me moriva il cuore quindi ho deciso di fare solamente il performer e grazie sempre a Mariano che mi ha dato sempre un sacco di spunti creativi mi ha dato sempre un sacco di storie da scandagliare ho iniziato a fare solamente il performer l'altra faccia della medaglia è il fatto che non uso trucchi quindi sono un vero e proprio atleta a tutti gli effetti tutti i giorni io devo continuare a ripassare quindi non sei un mago tradizionalmente indeso nonostante tu abbia vinto anche dei premi di magia o sbaglio sì sì ma ti dirò di più che all'inizio mi sono anche appassionato un sacco della magia quando ancora facevo le superiori a 17-16 anni prendevo i mazzi di carte facevo i primi giochi i primi erudimenti poi ho vinto un campionato di magia nel 2016 anche se in realtà viene chiamato congresso magico italiano Master of Magic campionato di magia anche se ospita in realtà un sacco tantissimi artisti giocherieri mentalisti e io ero lì in qualità di mentalista barra mnemonista ho vinto il campionato super felicemente e poi successivamente ho vinto altri due premi uno era del campionato di mentalismo e l'altro era quello di street magic quindi in realtà anche come performer di strada ho vinto Ferrara Basker Festival sono stato premiato come migliore artista nel 2015 solamente recitando la Divina Commedia ah quindi tu giravi per le strade sì ero lì fermo recitavo facevo il mio numero di multitasking come sempre però mi fermavo poi a spiegare esattamente partendo da un verso a caso spiegare esattamente che cosa accadeva in quel momento Dante perché era importante comprenderlo quanto fosse umano il suo stato in quel momento lì e si è creato veramente un capanello di persone c'erano 200 persone sedute attorno e lì ho capito che con la cultura o quantomeno con le cose che ti emozionano e ti appassionano si può da una parte lavorare e ispirare anche gli altri e per arrivare alla seconda parte della domanda quindi scusami se intervengo quindi c'erano dei famosi personaggi politici di cui non faremo nomi che dicevano che con la cultura non si mangia e Vanni gli ride in faccia queste persone ma diciamo che come dice ho visto recentemente un'intervista al professor Barbero che gli ha chiesto Claudio Messora se la storia ci può aiutare a non ricommettere gli stessi errori e Barbero ha risposto che chi commette gli errori la storia non la conosce a me viene da rispondere che chi veramente ha compreso l'importanza della cultura la conosce bene chi dice che non si può mangiare con la cultura non conosce la cultura probabilmente non conosce il potere della cultura perché è un potere che va oltre il soldo è un potere di valore è un potere trasformativo quindi è l'investimento che non è sul capitale ma è sulla centralità dell'essere umano dell'investimento più grande che noi possiamo fare poi attenzione il sintomo ok è il guadagno però attenzione perché perché sono l'unico in questo momento in Italia in Europa in America ce ne sono un paio che fanno quello che faccio io sempre cose diverse ma è anche bello andare a indagare quello che fanno gli altri e basterli magari sì sì o anche per invidiarli proprio in maniera sana perché fanno delle robe assurde anche di là sono l'unico in Italia e in Europa che fa queste cose quindi se tu vuoi un tipo di intrattenimento di questo tipo è l'unica porta a cui puoi bussare è quella della mia cameretta che c'è qua dietro che voi non vedete ma c'è è una porta e quindi certo c'è anche poi un rapporto economico con tutto questo però non è quella la spinta iniziale no 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 non è quella la spinta iniziale io all'inizio quando ho cominciato e ritorno alla alla frase che ho utilizzato all'inizio della nostra chiacchiera ovvero il fatto che io mi si sono ritrovato dentro perché io ho iniziato per la passione una persona come Mariano Tomati se solo ce ne fossero uno per regione probabilmente l'Italia sarebbe un posto migliore sì perché poi fa massa critica capisci cioè uno più uno più uno non fa tre fa fa molto di più ma sai che anche questa è una caratteristica comune perché in realtà è successo anche a me è successo anche ad Andrea cioè il fatto è questo io credo credo anche questo che se uno parte con l'idea di fare queste cose qui per soldi non è una motivazione sufficiente a resistere alla durezza dell'allenamento dello studio della questione cioè il fatto è che per arrivare al livello in cui sei tu in cui è Andrea in cui nelle mie discipline magari sono anch'io eccetera ci vuole così tanto tempo così tanta fatica così tanto impegno che se il tuo scopo è fare soldi ti conviene andare a vendere case cioè eh beh sì hai ragione dopo uno arriva al punto che ci fa anche dei soldi certo è vero ma prima di arrivare lì c'è talmente tanta fatica in mezzo che se il tuo scopo era fare soldi insomma era meglio un'altra strada certo certo anzi guarda io leggo tante volte un po' anche quelle frasi che secondo me sono anche abbastanza rivendute da una sorta di di motivazione americana stile americano dell'idea che fai il lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno della tua vita a me viene da dire io ci sono giornate in cui a momenti provo il burnout a momenti ribalto la scrivania distruggo tutto per quello ho le chitarre per quello il pianoforte per quello sono strumenti per farmi decomprimere ma il discorso è che io in realtà faccio un sacco di fatica alle volte maledico anche quello che faccio ma la soddisfazione che poi mi genera l'andare sul palcoscenico oppure la ricerca che ho fatto anche di 3-4 mesi ma andare poi sul palco e guadagnarci una vita con quella roba lì oppure anche semplicemente riportare una striscetta di un libro del 1825 che dice che per la prima volta è stata pubblicata la conversione fonetica di Aimee Paris ma quella cosa lì quando l'ho fatta poi mi fa voltare indietro e mi fa dire oh tutto questo è servito poi sul momento uno tira tira veramente di ogni cosa quindi no non posso dire che non mi sembra di non lavorare lavoriamo anche tanto anche Alessandro lavora tantissimo Andrea sono sicuro che arriverà a momenti dove il cervello a momenti gli esplode però quando vede che ha superato il record del mondo magari non in maniera ufficiale perché non c'è un giudice davanti però l'ha fatto in casa sua e ha quella motivazione per andare ai campionati e dire io ora vi spacco quella cosa lì paga molto di più di qualsiasi modifico bancario questa è la mia idea poi non so la tua Alessandro per me per me quella sensazione lì ce l'ho quando ricevo mail o messaggi di gente che mi dice grazie ai tuoi video grazie ai tuoi consigli ho fatto questo ho migliorato la situazione mi hai ridato la voglia di studiare cose del genere soprattutto quando ricevo il messaggio di qualcuno che dice io non studiavo e mi è tornata la voglia di studiare per me quella roba lì vale più di mille bonifici che poi è chiaro che uno deve arrivare alla fine del mese deve vendere i suoi corsi deve fare perché chiaramente è un lavoro è un mestiere però quando ricevi quei feedback lì quello ti ripaga di tutto lo sforzo molto di più del denaro certo veramente una volta mi ha scritto una professoressa che mi raccontava di questo suo alunno che aveva delle difficoltà di lettura di studio eccetera eccetera e che si era imbattuto nel mio manuale di lettura efficace che è gratuito l'aveva letto e da allora non solo gli era tornata la voglia di studiare ma continuamente anche con questa insegnante che era veramente veramente brava avevano cominciato a usare il mio gergo e quindi dire ah sono un lettore zombie ah devo usare l'approccio del carro armato così a usare le metafore che io uso e mi ha scritto questa professoressa per dirmi che il ragazzo aveva preso non mi ricordo se dei sette o degli otto eccetera eccetera e le aveva chiesto personalmente di scrivermi per dirmi grazie questo ragazzino di non so 15 anni 16 anni quella roba lì ora questo ragazzo non mi ha dato un euro capito però chi se ne frega mi ha dato la soddisfazione più grande che io potessi avere è stato un momento bellissimo è stato un momento bellissimo e ne ho avuti tanti così ecco quindi per te è il rapporto col palcoscenico per Andrea sarà il rapporto con la sua gara per me è il contatto con le persone perché abbiamo tre approcci diversi tu sei un uomo di spettacolo io sono un uomo di insegnamento Andrea è un uomo di gara e quindi abbiamo tre diverse cose però arriva quel momento di feedback diretto con la persona o con quello che stai facendo e quello ti riempie veramente di soddisfazione guarda fra l'altro mi permetto di dire che sono felicissimo un po' come dice Cialdini nel suo libro Le armi della persuasione c'è quel principio di riprova sociale no? ah sì io ho sentito ho provato fino a prima di conoscere te Andrea un senso di profonda solitudine perché vedevo che comunque i risultati arrivavano dal punto di vista della gratificazione personale come artista con le richieste teatrali con le richieste io lavoro tanto negli eventi per il momento il 70% del mio portafoglio riguarda aziende anche se non si vede non lo pubblicizzo è chiaro però diciamo che nonostante ciò c'è quella parte di palco che mi rende felice e ho sempre lavorato tanto per tenerla in piedi ma quando ho visto che comunque c'era una persona serissima che sei tu mi permetto di dirlo che hai approcciato il settore dell'apprendimento efficace ma anche efficiente mi viene da dire perché è un risparso di risorse energetiche economiche che non è da poco e lo fai con un piglio davvero di una precisione di una ricerca fantastici e Andrea che è anche lui della riprova della determinazione del fatto di lavorare in maniera monastica ogni giorno mi sono detto ma stai a vedere che la centralità sta proprio in quello fra noi tre perfettamente distinti nello stesso ambito concordi nella centralità del valore nella centralità dell'applicazione e quello è quella è l'unica cosa che mi sento di trasferire veramente alle persone che ci guardano non siate emoli di nessuno se volete fare qualcosa l'unica cosa che potete rubare se volete è veramente la volontà vedeteci la volontà il desiderio l'applicazione quotidiana perché quelle cose lì vi portano lontano quelle cose vi portano veramente lontano e quanto riguardo invece la fatica all'inizio perché c'è Nicola da Facebook che dice io provo a memorizzare ma faccio fatica è normale all'inizio è giusto insistere oppure cioè c'è anche c'è un momento in cui probabilmente quando uno si butta in qualche cosa di nuovo c'è quel momento di frustrazione iniziale in cui sbatti la testa e ti senti come la mosca sul vetro certo è giusto insistere è normale col mondo della memoria hai avuto anche tu quel momento ma assolutamente anzi mi viene da dire chi non l'ha avuto credo che anche Andrea l'avrà avuto anche tu l'hai avuto per il semplice fatto che ho qui degli strumenti musicali alle mie spalle probabilmente Jimmy Page non avrebbe composto la solo di Stairway to Heaven se si fosse fermato al crampo al do maggiore e quindi l'idea è che ogni volta che tu provi anche qui non voglio rientrare in quella motivazione ma ogni volta che tu provi qualcosa e non funziona quello che ne trai è un insegnamento c'è un'autovalutazione e il dolore i muscoli crescono si dice per supercompensazione cioè devi creare uno strappo all'interno del muscolo che poi viene ricompensato e ne aumenta la forza la massa la plasticità elasticità quindi in quel momento quando fai fatica in realtà tu stai lavorando per supercompensazione lo stesso Andrea un tempo fa quando ci siamo sentiti noi tre o forse nella live Andrea aveva detto che per allenarsi sulle si l'aveva detto sia in live sia perché dovete sapere riferiamo i segreti noi abbiamo una chat di whatsapp io Andrea e Vanni dove ci mandiamo meme e stupidaggine perché anche noi facciamo i cazzoni naturalmente ecco comunque l'aveva detto sia in live sia quando ci siamo sentiti anche su skype chiaro e la cosa è questa che Andrea si allena alle volte per poter memorizzare delle serie numeriche impossibili tipo anche 600 cioè con una velocità tale che dovrebbe sulla carta memorizzare 700 cifre in 5 minuti poi va malissimo va malissimo ma quel lavoro che fa serve per uscire da quella situazione che descrive benissimo Joshua Foer nel suo libro l'arte di ricordare tutto si stabilita ottimale quindi evita di appoggiarsi su quella cosa che già gli viene bene si sforza va male ma andare male pianificato e andare male pianificato e poi paradossalmente diceva Andrea poi quando ritorno a velocità normale vado bene eh sì chiaro anzi vado meglio perché sono migliorato perché nell'allenarti velocemente probabilmente Andrea che ne so anziché focalizzarsi sul memorizzare veramente si focalizza sul convertire più velocemente possibile indipendentemente dal fatto che memorizzi o meno chiaro poi non lo so sarà Andrea a dirlo però sicuramente è un tipo di lavoro che non farebbe normalmente memorizzando alla solita velocità quindi sì evviva il dolore no pain no gain dicono gli americani è giustissimo ma vi dicono qua la domanda la domanda scherzosa del momento ma queste tecniche vanno in manipolazione ma con le donne scrive Sandro chiedo per un amico guarda allora ti lascio rispondere da mio cugino allora ma in realtà tecniche di manipolazione oddio forse me lo sta guarda con la memoria ma forse una cosa carina ma la veramente che si può provare è quella di se vuoi fare il brillante di dire che le memorizzi il numero di telefono e lei te lo dà sbagliato chiaramente perché lei te lo dà lei te lo dà sbagliato può capitare oppure le volte che non so ti memorizzi il numero di telefono e poi non la contatti per una settimana e dopo una settimana la contatti chiaramente l'hai memorizzato quindi vedi di metterlo sul telefono beh perché c'è anche una la parte percepita importante quindi dopo una settimana ah guarda mi sono giusto ricordato il suo numero di telefono è una figura da campione in realtà no forse la domanda Alessandro è stata posta perché il termine mentalista per quella cosa lì forse ma non lo so perché c'è quella mi viene da aprire un vaso di Pandora non so se posso farlo l'apriamo la controversia l'apro io ma stimentali ma stimentalisti che dicono che manipolano le persone posso dire una cosa la dico a nome di tutti quelli che si sono mai interessati di magia in vita loro io non sono un mago però sono un appassionato il mentalismo è una branca della magia per cui sì ci sono i trucchi ci sono i trucchi non c'è nessuna nessuna magia ipnotica sono trucchi naturalmente perché la mi confermerai o smentirai Vanni la magia è in gran parte presentazione certo quello che cambia nel mentalismo è la presentazione della magia te lo presentano come se fosse con una sovrastruttura appunto mentale ma è un trucco è un trucco come tutti come quelli di carte nessuno si immagina mai esattamente esattamente solo che lavorando con le parole c'è un'impalpabilità di fondo che nel settecento i mesmeristi passavano come magnetismo animale a me gli occhi a me gli occhi poi è diventata la capacità che ne so di poter comunicare con i morti il mentalismo nel corso del tempo ha avuto milioni di trasformazioni il discorso qual è alla base che nessuno si è mai premurato di mettere una parete di una sorta di parete di confine tra la performance e la verità perché tutti ci hanno giocato ci sono delle questioni omeriche anzi lotte intestine mi verrebbe da dire sul fatto che si o no il mentalista quando scende dal palcoscenico deve continuare a fare il personaggio allora si se tu mi parli di personaggio alla Max Maven se volete andare a vedere chi è Max Maven l'ho incontrato a Torino gli ho stretto la mano Max Maven è un gigante del mentalismo Max Maven è Max Maven in scena ed è Max Maven in scena lui è così io l'ho visto al ciclo degli amici della magia e lui girava con la sua tunica con le unghie ed è lui lui è così tutto il giorno è l'esatto opposto perché Maven che è nella vita reale sale sul palcoscenico invece tanti mentalisti fanno il contrario vanno sul palcoscenico imparano i rudimenti della magia dell'illusionismo li declinano al mentalismo perché poi il mentalismo è come dicevi benissimo prima una branca dell'illusionismo però poi quando scendono dal palco si dimenticano di esercitare quella quell'etica che che li obbligherebbe a dire guarda finora hai visto uno spettacolo cosa che fa Darren Brown dice questo spettacolo ricordatevi che c'è showmanship c'è psicologia ma è un trucco invece il mentalista alle volte scendendo dal palco poi inizia a dire ah vuoi comunicare come me e leggere i pensieri della mente fa il mio corso di conquistare le donne anche anche di seduzione ma io quando io ho tante persone sono da solo aiutatemi vi prego io ho tante persone che mi ma no ma io voglio bene a queste persone perché giustamente no che colpa ne hanno bisogna accampare vedono un performer che poi si millanta veritiero anche nella realtà e quindi non è colpa loro e non hanno le armi non hanno gli strumenti i ferri del mestiere per poter capire che stanno mentendo però io mi metto tutte le volte le mani in faccia un po' come ha fatto mercalli quando gli hanno parlato gli atti la mamma mia vabbè del riscaldamento globale e quando mi dicono guarda ma c'è questo che è in grado di sedurre una donna schioccando le dita puoi chiudere un contratto con un cliente semplicemente facendo i neuroni specchio ma non sanno neanche di cosa stanno parlando non sanno di cosa stanno parlando i mentalisti tutto sanno tranne che parlare di comunicazione psicologia fanno tanti corsi per prendere il diplomino e poi fatti la foto del diplomino e metterla lì ma non è un percorso non è una laurea in psicologia del pensiero cioè è master di due un fine settimana deputo da non si sa chi e vabbè quindi il discorso è che è il motivo per cui sono anche ho cercato di differenziarmi parlando di mnemonista e non mentalista perché infatti c'è Massimiliano che dice proprio qual è la definizione di mnemonista perché diamogli diamo un contesto che cos'è un mnemonista nello specifico allora un mnemonista è una persona che innanzitutto mi verrebbe da fare la distinzione perché siamo nell'epoca giusta per farlo un memory athlete probabilmente è una persona che si prepara a livello competitivo per poter memorizzare informazioni complesse a carattere transitorio un mnemonista invece è un intrattenitore un uomo di spettacolo che almeno nel mio caso che utilizza la memoria per intrattenere il pubblico e memorizzando velocemente informazioni che gli vengono somministrate al momento oppure rievocando informazioni che già ha memorizzato e nel mio caso poi declino tutte queste competenze anche nell'ambito dell'apprendimento quindi c'è un'azienda per cui faccio consulenza e va bene certo di base di base c'è l'intrattenimento ma quando scendo dal palcoscenico per parafrasare prima Maven in scena c'è Vanni che da terra sale sul palco non è il contrario quando ho deciso di salire sul palco era perché moralmente eticamente mi sentivo coerente col messaggio che volevo trasmettere cioè anche tu spettatore che mi guardi e mi vedi far ste robe sappi che ce la puoi fare se ci se ci dedichi tempo e quant'altro c'è chi prima di me l'ha fatto ma puoi farlo anche tu a me basta far passare quello poi non mi interessa che mi faccia l'applauso e quant'altro c'è un principio che io trovo sempre fantastico io da appassionato di magia devo dire che dal punto ovviamente sono della scuola di James Randi di quella gente lì ho avuto la fortuna di fare anche il workshop con Randi a Torino è stato uno dei momenti più belli della mia vita questa cosa te la invidio tanto sì ma ho le foto con James Randi almeno una volta alla settimana me le guardo dico madonna ma che bello ma sbaglio era il 2012 era il 2000 no era il 2014 o 13 a Torino era l'anno che è venuto giù e non ho fatto il workshop mi sono perso quel workshop sì tra l'altro ho usato il Muay Thai per mettermi in prima fila e gli ho detto non esiste che io vado all'evento di James Randi e non sono in prima fila a vederlo ed è stato bellissimo e mi ha fatto anche dei giochi mi ha preso l'orologio e me l'ha magicamente spostato in avanti con l'ora poi ha spiegato anche come si fa ma io ovviamente non ve lo rivelerò e un sacco di cose meravigliose si ha condiviso la sua vita insomma comunque tra gli allievi diciamo spirituali di James Randi ci sono Penn & Teller no Penn & Teller e c'è proprio Penn che diceva questa cosa che secondo me Penn Gillette appunto se non lo conoscete insomma la storia della magia passa da quei due tizi lì tra l'altro che diceva questo il principio della donna segata in due e cioè lui dice nessuno quando io sul palco seguo a metà la donna crede di aver assistito a un omicidio e nessuno se ne va a casa pensando che io abbia veramente squartato una persona sul palco scenico per cui per quale motivo la gente se ne dovrebbe tornare a casa pensando che io manipolo le menti è sbagliato cioè lui il principio deve essere questo cioè tutti devono starci al gioco durante lo spettacolo ma devono tornare a casa sapendo che io non squarto le persone e che non leggo nelle menti è uno dei motivi per cui Penn ma anche Teller in realtà sono criticissimi del mentalismo moderno perché lo ritengono appunto contrario a quel principio esemplificato da Randy che diceva an honest liar cioè sono un bugiardo onesto cioè io vi dico delle bugie ma dichiaro che dirò delle bugie ecco e questa cosa spesso il mentalista se la dimentica e si spaccia per qualcosa che non è ecco questo è un po' questo è molto vero e guarda proprio per anche per far passare il messaggio che si può fare si può essere coerenti corretti moralmente puliti e comunque poter vivere di questo di mentalismo facendo spettacolo vi dico che c'è un mio caro amico di nome Francesco Busani che fa un tipo di mentalismo che è un po' borderline perché un mentalismo one to one innanzitutto perché lui è specializzato nell'uno a uno lui è una persona davanti a sé al tavolo e accadono cose sensazionali da letture dei tarocchi la tavola spiritica ma Francesco prima di fare andare via la persona dice ricordati che hai visto uno spettacolo e che tutto questo non può essere replicato in nessun altro contesto se non in un contesto di spettacolo ma questo non toglie niente all'esperienza meravigliosa che tu anzi no perché il problema grosso è che il fatto di non rivelare la verità allo spettatore non va a rispondere non va a tutelare il suo non va a tutelare il mistero o va a tutelare l'esperienza magica va semplicemente a tutelare l'ego ipertrofico del performer e basta che si sente fighissimo si sente figo si deve sentire figo quindi non te lo dico ma no ma tu anche se magari non nel dettaglio non ti devo dire cosa ho fatto il segreto del mago abbatto la percezione magica l'esperienza sono venuto apposta per farmi stupire però se tu mi metti in guardia e mi dici guarda si può fare come diceva Silvan a Gustavo Roll lo può fare Roll io lo faccio uguale con il trucco però quindi perché Roll non si fa vedere il discorso esattamente quello quindi si può fare si può anche fare un tipo di mentalismo bizzarro borderline però essendo rimanendo comunque etici corretti esatto etici e a proposito di questo mi collego con un'altra cosa che sta molto a cuore a te e anche a me che è proprio questa cioè il ruolo del performer ma anche del mago ma anche della persona che ha delle competenze a livello di scetticismo cioè il fatto di e tu collabori molto con il CICAP naturalmente hai fatto anche tu il corso di indagatori sei un sostenitore eccetera e c'è anche una sorta di dovere civico da parte delle persone che sanno qualche cosa di contrastare la marea di bugie di stupidagini di pseudoscienze che si riversano nel mondo di oggi cioè tu in che modo senti questa necessità e come lo fai anche tu allora io sono rimasto estremamente colpito quando ho fatto il corso di indagatori di mistero dall'introduzione di Sergio della Sala che è sottostituitatissimo ha detto tutti noi non dovremmo fare altro che ambire essere scettici perché perché se guardiamo l'origine della parola significa essere un acuto osservatore curioso non significa mettere le cose in discussione solamente perché piace a noi o perché bastiamo contrari esatto senza se senza ma anzi argomentando essere scettici è il modo migliore anche per disaffezionarsi dalle proprie teorie perché rischiamo di guardare solamente il mondo con il nostro paio di occhiali invece lo scetticismo meglio ancora il mondo della scienza siccome si basa su uno scetticismo per l'appunto omogeneamente distribuito io non posso essere vittima dei miei istinti primordiali come l'essere affezionato alla mia teoria il fatto che non che ho i miei pregiudizi i miei bias cognitivi c'è una comunità che lavora al posto mio per fare in modo che non possa incappare in queste cose che soprattutto si forma continuamente si forma se si formano in 499 mentre mi formo io io non potrò mai formarmi nello stesso tempo e nella stessa qualità e nella stessa modo di informazioni in cui si informano in 499 certo la sommatoria delle loro esperienze vale più della mia sicuramente lavoro di squadra no? lavoro di squadra esattamente quindi è importantissimo essere scettico soprattutto il CICAP nasce nell'89 e all'inizio si guardava diciamo più i fenomeni paranormali i medium le sedute spiritiche i tarocchi lo stesso Piero Angela dice all'inizio era più un gioco no? perché certe cose certo davi da scienziato davi un po' per scontato il fatto che non fossero reali però cercavi di comprendere quale fosse la dinamica dietro e fra l'altro lo stesso Piero Angela persona estremamente illuminata dice che quando si fa una ricerca che comunque prevede anche la 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 verifica di informazioni o comunque di eventi che sono dipendenti dalla dinamica umana è utile e importantissimo mettere un prestigiatore nella comunità nella fra i sì fra chi deve esatto fra chi deve controllare nel gruppo chi deve controllare perché questo perché gli scienziati sono abituati a lavorare con i numeri con i batteri con gli elementi con le molecole che sostanzialmente non mentono mentre invece l'essere umano pur di spiccare pur di avere un momento di gloria lo fa c'è un po' un'ingenuità dello scienziato che dà per scontato che la persona stia dicendo la verità mentre invece il mago sa che si può mentire e si può mentire anche spudoratamente e si può mentire spudoratamente tantissimo anzi lo scienziato ha interesse nel fatto che il fatto che una persona faccia così e poi riesca a muovere una barra di che ne so di metallo ci riesca veramente perché in questo modo poi può analizzare il fatto e capire che cosa comprende non so forza elettromagnetica esiste veramente la telecinesi e poi cerca di iniziare a misurare ma la non so la fraudolenza come fai a misurarla hai bisogno di una persona che è specializzata nel dire una bugia che è un prestigiatore dice bugia costantemente però una persona che è specializzata nel dire bugia fin di bene io ricordo la storia incredibile che racconta sempre Randy adesso non vorrei sbagliare i dettagli ma in soldoni fu quando distrusse Urieller in diretta perché imbrogliando come è giusto che fare imbrogliando come solo Randy sa imbrogliare gli sostituì sapete Urieller era quello che piegava i cucchiaini tra l'altro la psicocinesi è una delle branche del mentalismo ed è affascinantissimo tra l'altro perché io per esempio che conosco moltissimi metodi magici non so niente di psicocinesi e quindi quando vedo i performer i mentalisti che lo fanno sono affascinatissimo perché cerco sempre di scoprire il trucco e ancora oggi ho un sacco di supposizioni ma non so i metodi e non li voglio cercare su internet perché mi piace la sfida intellettuale di cercare di capire come facciano e Urieller però convinceva la gente che era davvero capace di piegare i cucchiaini come Neo in Matrix e naturalmente i cucchiaini erano chiaramente modificati e avevano fatto non racconto il trucco perché magari qualcuno non lo sa ma insomma il buon Randy con una mossa davvero imbroglione gli sostituì in anticipo i cucchiaini e quindi il buon Urieller non riuscì naturalmente a piegare alcunché perché chiaramente e si inventò che appunto la laura negativa di Randy gli impediva no perché chiaramente sta benedetta aura negativa guarda c'è sempre laura negativa laura negativa poi vorrei conoscerla questa laura veramente gliene vorrei dire quattro il fatto è che la stessa aura negativa è quella che impedì a una ragazzina di poter leggere con le dita perché c'era questa ragazzina russa se non sbaglio che poteva leggere con le dita dei testi il braille era il braille perché tante persone sono capaci in realtà no però sarebbe stata una bella cosa in realtà no diceva di poterli leggere vendata quindi c'era scienziate attorno che la guardavano e poi hanno detto ma non è che questa ragazzina qua riesce a vedere sotto la benda spircia cosa che quindi dicono prendiamo la benda mettiamocela sugli occhi o non vedevano e quindi a uno viene da pensare oh ragazzi questa veramente ci viene da una vita se non che quando le hanno messo sotto gli occhi un foglio di carta così la laura nera è sbucata e non le ha fatto più vedere niente quindi si smirciava dai insomma smirciava smirciava lo scrive meravigliosamente Massimo Polidoro perché bisogna vedere anche il livello di dettaglio a cui bisogna arrivare per comprendere che un sistema è veramente studiato ad hoc sostanzialmente siccome questa bambina metteva la benda sul naso suo il naso aveva una forma molto dolce e questa cosa permetteva di creare dei fori per sbirciare mentre invece quando le indossavano uomini adulti nasoni nasoni esatto la benda andava perfettamente ad aderire e quindi non vedevano quindi era un trucco anatomico esatto esatto fantastico ti sparo un po' di domande perché sennò poveretti il nostro pubblico non gli rispondiamo eccetera chimica in versi di alberto cavaliere sì assolutamente sembra una cosa figa bene me la segno subito bene perché faccio l'ammonista ma non ho le capacità ma anche io mi segno io sono pieno pieno di post it ma anche muzzi si scrive le cose fidare che io lo conosco bene se le scrive anche lui oh poi quanti ripassi fai oh questa è una controversia perché io stesso in passato nei miei video ho detto una cosa scorretta su di te e quindi la devo rettificare in diretta e cioè io ho detto nei miei video che tu sapevi a memoria l'intera Divina Commedia una delle primissime cose che tu mi hai detto quando ci siamo visti è occhio che non la so tutta allora adesso la chiarirai però ti chiedono Tony ti chiede quanti ripassi fai per mantenere la Divina Commedia e intanto chiariamo la controversia e mi dispiace per l'errore mi sono lasciato fomentare dalla tua abilità e ho detto questo la sa tutta invece no allora il poema chiaramente lo conosco tutto ma non tutto a memoria avevo iniziato nel 2015 a studiarlo tutto ero arrivato fino a completare l'inferno quindi fino al canto preliminare e poi fino al 34esimo canto l'inferno te lo sei sparato tutto sì 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 ed ero anche pronto a fare il purgatorio qual è il problema che già l'inferno per essere ripassato sono circa sei ore e mezza di declamazione e uno vuole anche una vita sociale fatta una certa e poi il discorso è però che oltre al ripasso della Divina Commedia devi necessariamente perché l'ho iniziato a farlo diventare un lavoro a trovare altre performance da portare quindi che ne so mi sono specializzato nella nella memorizzazione di riviste a carattere scientifico e allora memorizzavo che ne so Focus però dovevo poi ripassare Focus alla fine passavo 12 ore al giorno sui ripassi e basta avevo perduto la bellezza del nuovo e allora mi sono detto facciamo una bella cosa ridimensioniamo un attimo anche perché alle porte c'era il campionato mondiale di mentalismo nel 2017 a Busan e non potevo portare la Divina Commedia ok ho detto porto i sonetti di Shakespeare che fra l'altro sono scritti fintamente in rima Shakespeare ci ha provato però ahimè mi piacerebbe andargli a dire 4 insieme a Laura Nera non è stato complesso e però più studiavo i sonetti meno avevo tempo ma la Divina Commedia per 4 mesi non l'ho neanche aperta ma quindi ti faccio una domanda provocatoria ma quindi i 276 libri tu non li sai a memoria ah ok ma guarda no ma ti dico una cosa in più che sarebbe già complesso conoscere 261 titoli ecco ecco ma fra l'altro ma lo dice anche il buon Dominico Brian l'hanno intervistato a Patti Chiari in intervista della radio televisione in Svizzera lo stesso Brian ha detto che una persona un umano non potrebbe ricordare a memoria così tante informazioni ad litteram ricordiamo perché non è che devi sapere qualcosa ad rerum concettualmente anche le virgole devi sapere per saperle così non io ho avuto esperienza sempre con le riviste scientifiche io ho memorizzato 4-5 volte l'airone la rivista e io ne memorizzavo 30-40 pagine infatti una delle prime volte che ti ho scritto su facebook tu ovviamente non l'hai visto all'epoca ma io sono fan della sua pagina facebook e anzi da poco ho ricevuto il badge di fan più attivo quindi sono un fan importante e gli scrissi non me ne vanterei troppo però tu avevi appena condiviso il fatto che avevi finito di imparare un'intera rivista 160 pagine e io ti scrissi cavolo io l'ho fatto con 40 ed è un lavoro pazzesco non riesco neanche a immaginare quanta fatica uno possa fare per farsi tutto il cavolo di focus e io l'avevo memorizzato immagino anche tu a livello di dire pagina 31 c'è una pubblicità il numero di telefono del numero verde della borsa ed è veramente terribile è una roba pazzesca quindi quanto si deve memorizzare ecco scusami ti faccio finire il discorso quindi quanti canti ti tieni a mente adesso per i tuoi spettacoli e quanto tempo ci metti adesso sono circa no facciamo sono una ventina sì sono una ventina cosa comunque non domani sì insomma sono tanti sono circa stiamo parlando di 4.000 e passa versi no 3.500 versi forse 3.800 versi il fatto però è che quando voglio siccome già ci sono passato sopra fino al 34esimo ci posso arrivare quando voglio recuperarlo purtroppo è particolarmente facile perderla la Divina Commedia ma in genere è facile perdere qualsiasi cosa che deve essere memorizzata dell'iteram perché concettualmente invece tutti i canti so esattamente di che cosa parlano te ne posso parlare per ore però saperla veramente a memoria poi il discorso è che tanti suffissi si ripetono ah certo che ne so il sesto canto il quindicesimo dove c'è ad esempio Brunetto Latini tanti finiscono in Ena e tu non te ne accorgi e rischi di passare da un canto all'altro oppure non ti viene il verso dopo i ripassi la domanda però tu hai quanto ripassi quanto ripasso guarda solo la Divina Commedia ora tutti i giorni faccio i canonici ripassi all'italiana quindi i ripassi senza intenzione dove mentre mi lavo i denti faccio la doccia nel mezzo del cammino di nostra vita tutte queste cose così e ci metto circa un due ore e mezza tre abbondanti però poi tolto ciò ho una azienda da tenere in piedi che ho mille oggetti aperti mi sto espandendo però sono ancora per il momento abbastanza da solo perché sto addestrando altre persone a destri a destri a destro a destro perché veramente qua è quasi militare l'andazzo però sto per le altre memorizzazioni di cose che già so ripassi ripeto di schedari che ti dicevo prima piuttosto che calcoli rapidi esercizi propedeutici poi ci passo attorno alle 5-6 ore al giorno ma e quindi c'è Massimiliano che dice quando dicono che Benigni conosce l'intera divina comedia a memoria è falso? è una leggenda metropolitana? bisogna chiederlo a Roberto perché si è detto anche di ma di Dante si è detto che conoscesse a memoria l'Eneide non lo so io li devo ancora vedere quelli che anche di Gassman si è detto che conoscesse a memoria la divina commedia il compito della mirandola diceva di saperla ripetere al contrario al contrario magari un canto tutta dicevano ma al contrario cosa? poi in che senso? cioè che la ripeteva tipo un astro inverso mi pareva così mi pareva proprio così che dicessero perché comunque sono tutte testimonianze di persone che sicuramente erano vicino a questi individui a questi grandi personaggi però sono sempre testimonianze sono sempre aneddoti aneddoti personali esatto quindi vai a capire dove sta la verità è più probabile che lui si prepari a memoria i canti che deve fare quel giorno lì parli di me in questo momento parlo di Benigni anche va su Rai 1 e porta tre canti si impara tre canti avrà anche il gobbo chiaramente però voglio dire si imparerà a memoria a tre canti quello che è ah sì 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 lui ha il gobbo senza dubbio però poi a fine io ad esempio guarda perché li ho guardati tutti ce li ho tutti e anche a testimonianza del fatto che comunque l'ho visto recitarla purtroppo non dal vivo però scusate un po' il traffico ho il cofanetto con tutti i DVD di Benigni legge Dante ma il fatto è che lui al termine vi consiglio di acquistarlo se potete veramente è fantastico vedere Benigni in movimento sul palco che recita Dante è un grande professionista fenomeno poi va a braccio da morire passa sacre scritture corano come niente ok che sei preparato però quando vedi che uno inizia ad andare a braccio così le cose le sa e il fatto è che Benigni poi alla fine quando ha smesso di fare la parafrasi lo recita cioè lo recita proprio tutto a memoria e lo fa con ogni singolo canto quindi di sicuro l'inferno lo sa tutto perché io qua ho tutto l'inferno l'inferno lo sa tutto Purgatorio e Paradiso non lo so sai poi parliamo sempre di un'opera veramente enorme enorme conosco l'unica persona che ho conosciuto che sa tutta la divina commedia memoria e la sa veramente tutta la memoria si chiama Farfarello e se avete modo se andate a Firenze nel periodo primavera estate andate davanti al museo casa Dante ok davanti al museo casa Dante di solito si mette questa persona vestita da Dante Alighieri truccato di bianco in faccia tipo mimo wow che non spiccica una parola ha una divina commedia davanti a sé ok e con gli occhi di questa faccia tre anni no nel 2015 ho visto gli occhi di questa faccia una scolaresca che gli stava davanti ha preso una monetina l'ha messa dentro e così perché pensava che fosse solo un mimo di Dante ok e una ragazza si gira e fa prof ma qual era il canto dove Dante incontra l'aquila e si parla del rubinetto vedi lui che si alza e fa è il diciannovesimo del paradiso e gliel'ha declamato tutto incredibile tutto tutto che meraviglia una bellezza straordinaria e sto ragazzo pensa a Farfarello ne parlano i giornali no no è un ragazzo umile va ogni sei mesi va a fare missioni umanitarie poi torna in Italia declama la divina commedia torna a fare missione belle persone belle persone che contro la divina commedia solitamente è anche una bella persona è un testo che comunque mantiene anche una profondità incredibile siamo qui a parlarne dopo sette secoli ed è ancora freschissimo veramente pazzesco ho un altro po' di domande carrellata perché sennò le persone si spazientiscono poverette domandano ma si possono allenare l'intelligenza la memoria fotografica e queste cose così aiuto allenare l'intelligenza forse non non so neanche se si possa dare risposta a questa domanda non saprei neanche dare una definizione di intelligenza io stesso ma anche perché sono in tanti ancora che si stanno grattando la testa e stiamo parlando di chi si occupa di psicologia cognitiva come Paolo Legrenzi con cui ho avuto il piacere di lavorare ci sono diversi tipi di intelligenze sicuramente certo allenare si e poi l'altra perdonami e poi c'è la memoria fotografica memoria fotografica credo che se uno che è veramente in grado di memorizzare fotograficamente per come la intendiamo noi esistesse al mondo c'è un idiota van che se non sbaglio ha un'ottima memoria fotografica credo che Andrea Muzzi e tutti gli altri memory athlete sarebbero completamente distrutti nella palta sei distrutti perché questo basta che guarda un secondo il foglio di carta sicuramente abbiamo una memoria spaziale molto buona e dobbiamo imparare a utilizzare al nostro vantaggio memoria fotografica e memoria episodica magari perché poi quando mi dicono memoria fotografica quando poi indago con le domande vedo che tanti mi dicono sì perché quell'evento me lo ricordo come fosse una fotografia ah allora è diverso parliamo è diverso se invece una memoria fotografica di apro il libro quello che c'è lo memorizzo ti posso dare perché poi le domande sono tante almeno sono veloce la mia esperienza è stata sempre sulla memorizzazione della rivista che diceva Alessandro e lo sa bene tu è vero vedi un'immagine puoi dirmi che cosa accade a spizziche bocconi all'interno di quell'immagine ma a meno che proprio non ti ci soffermi per tanto tempo non mi puoi dire con esatto dettaglio i colori i pixel mi sai dire che ne so quella è la pubblicità della Caligari se c'è un ragazzo con le braccia così con le gambe allungate esatto il discorso tonalità di marrone nero ma memoria fotografica come la intendiamo noi è una cosa da savane è una cosa più da savane esatto in che modo e se le nemotecniche ti hanno aiutato a imparare le lingue tipo l'inglese per esempio ho imparato l'ungherese ah colpo di scena colpo di scena plot twist adesso dici una frase in ungherese per favore perché io ok a che ore sono perché dipende dall'orario sono le 5 e mezza quindi ho detto buonasera a tutti sono Vanni ed è un grande piacere fare la vostra conoscenza io ovviamente non posso controllare che tu non abbia soltanto fatto dei vocalizzi a caso però mi fiderò mi fido no 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 posso dire a mia discolpa che e quindi puoi andare a controllare ho detto che non parlo l'ungherese ma un po' lo capisco il fatto torniamo sempre lì che questa lingua ad esempio l'ho imparata quando sono stato con una ragazza italo-ungherese quindi ho avuto i miei motivi per poter per dover imparare la lingua tecniche di memoria le usate tecniche di memoria le usate ad esempio baciami grande frase usata in quegli anni choco 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 è il bacio choco 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 per memorizzarla immaginavo che mentre davo un bacio a Elisa questo è il suo nome immaginavo una tavoletta di cioccolato che usciva dalla mia bocca con sopra Hitler che diceva ma sopra non voglio fare il gesto chiaramente poi estraggono la clip e ti fanno passare per il nazista ma sopra la sua mano c'era Meg de Griffin fantastico quindi come vedete bene è un semplice link system però utilizzato per poter memorizzare un termine in particolar modo Alessandro lo sa benissimo ho fatto una scomposizione di una parola complessa in termini più facili da gestire in chunk perché ad esempio la parola chok è il bacio quindi baciami e soprattutto l'ungherese è una lingua agglutinante quindi va a comprimere in un solo chunk tante piccole parole le va a mettere in una sola parola solitamente quindi se tu conosci tanti chunk e tante immagini le puoi andare anzi tanti bit di informazioni le puoi andare a infilare in un solo chunk con un'immagine specifica in questo caso o poi al mag e in ogni caso un'altra domanda che avevo letto adesso non la ritrovo più ma me la ricordo il rapporto che c'è tra la memoria e l'emozione che è un rapporto strettissimo il segreto è proprio emozionarsi mi viene da dire che qualsiasi mamma probabilmente conosce il peso di suo figlio quando è nato eppure è un'informazione numerica transitoria che non ha dovuto dover ricordare a vita però quando gliela chiedi la sa perché è stato il giorno più bello della sua vita questo vale anche per il negativo tante volte quando inizio le conferenze dico alle persone memorizzate questa serie numerica senza se senza me non fate domande via allora 1109200102081980 vai ditemela ditemela e tutti come faccio a saperla il fatto è che la sappiamo già ma non abbiamo applicato un sistema di conversione perché poi quando chiedo scusate ma quando è nata quando sono crollate le torri gemelle 11 settembre 2001 esatto ma ancora non hanno agganciato sai e poi chiedo ma scusate invece se vi dovessi chiedere un evento la strage di Bologna 2 agosto dell'80 ma scusate 11092008 ah esattamente quella cosa lì certo quindi vale sia col positivo che col negativo vado avanti con le domande perché qua vai spara consigli pratici per chi studia il tuo rapporto quindi con lo studio anche allora innanzitutto la pianificazione perché se non pianifichi non vai veramente da nessuna parte grazie Vanni ti voglio tanto bene in questo momento vabbè ma questo è il tuo ambito caspita non mi credo quando lo dico io non mi credono per cui se lo dici tu almeno adesso ti crederanno non andate da nessuna parte se non pianificate e ve lo dice uno che nella vita ha sempre procrastinato nel momento in cui ho iniziato a pianificare tutto è stata la svolta e anzi mi arrabbio quando non riesco a mettere degli slot lamentavo ad Alessandro prima della live che non sono riuscito ancora a trovare un'ora per suonare gli strumenti qua dietro però perché io di quell'ora ora ne ho bisogno e quindi devo pianificarla il fatto che non riesca a farlo mi fa arrabbiare quindi da una parte la pianificazione dall'altra una cosa perché voglio smontare quello che dicono sulle tecniche di memoria non sono la risposta a tutti i mali ricordatevi sempre che le tecniche di memoria sono come un bisturi all'interno di una sala operatoria sono usate per una funzione specifica non risolvono tutti i problemi se il paziente non respira sicuramente non gli infilate il bisturino nel petto la trachea no allora il discorso è che ad esempio faccio discorso pratico così mi capite bene per memorizzare 164 pagine di focus la domanda vera da farci è quanto tempo ho dedicato alla compressione concettuale degli argomenti e quanto tempo ho dedicato all'archiviazione delle pagine io ho dedicato dieci giorni a leggermi focus quindi per dieci giorni l'ho letto cercato di capirlo quando non capivo chiamavo un amico più bravo di me che sapeva l'argomento per spiegarmelo in parole in povere quello che viene chiamato un po' il metodo Feynman invece per memorizzare l'associazione pagina immagine mentale chiaramente lì ci ho messo poco ci ho messo un giorno due perché comunque avevo già uno schedario mentale quindi sapevo già che a pagina 52 si parlava della sabbia del fatto perché non possiamo usare la sabbia del Sahara e perché continuiamo a dragare i fiumi allora concettualmente l'ho capito benissimo 52 sarà che ne so Gianni Togni che è nel Sahara certo chiaro chiaro quindi l'associazione istandare quindi niente pianificazione memoria sì però non c'è comprensione come base comprensione rielaborazione acquisizione fatta bene certo anzi se ce n'è bisogno anche mettere schematizzare insomma tutto quello che serve per la corretta comprensione le tecniche di memoria prima che arrivano ragazzi ne passa qua sotto i punti almeno questo poi non so te io dico le stesse cose tutti i santi giorni dico le stesse cose tutti i santi giorni e quindi sono felice di avere un alleato di avere un alleato veramente bene 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 perché non voglio pontificare ti do una ti alzo una palla sulla PNL che tu puoi scegliere se ignorare o schiacciare ok perfetto e adesso vi annuncio in diretta e lo annuncio a Gattavanni che non lo sai neanche lunedì esce il mio video sulla PNL perché ho deciso che mi vado a invischiare in un bel vespaio e quindi tu stai schiazzando ho scritto un bel video il titolo provvisorio è PNL la pseudoscienza della formazione una cosa del genere dopo vedremo quale sarà il titolo finale ma dai ma questo è un easter egg supposissimo che mi fai ho detto ho detto ma scusa è un po' che non mi prendo un po' di parole dalla gente è giusta quindi lunedì esce il mio video sulla PNL e sarà un massacro per me soprattutto ma non vedo l'ora non vedo l'ora quanto sono vicino a questo argomento io ci ho creduto io ci ho creduto non l'ho insegnata come dice Sandro però ci ho creduto per un periodo ci sono cascato ho fatto tutti i corsi ho i libri guardate qua eccolo qua Richard Wendler ce l'ho sulla scrivania perché lo stavo rileggendo proprio per fare il video e poi programmazione neurolinguistica e poi PNL in 21 giorni ne ho quanti ne volete di sti cosi qua ma è mai uscito un libro PNL for Dummies non lo so non lo so c'è PNL per i musicisti PNL guardate lunedì saprete quello che ne penso io però mi pare di capire dalle reazioni di Vanni che anche lui non è che proprio sia tanto a favore vabbè lasciamo per me le prendo tutte io le parole lunedì tranquillo sogni lucidi conosci i sogni lucidi hai fatto sogni lucidi c'è Andrea Muzzi chiedete a lui che lui lo faceva ed era un esperto ma tu invece mai hai avuto esperienze? no probabilmente è una cosa che è vicina ma non credo di aver mai veramente provato un sogno lucido perfetto invece ci insegna a leggere i tarocchi sai leggere i tarocchi Vanni? in che senso le cose prodotte in Cina no i tarocchi guardate l'unico motivo per cui ho incontrato i tarocchi è sempre sotto il profilo storico perché comunque le carte che utilizziamo noi le carte napoletane e le carte francesi sono gli arcani minori dei tarocchi ma in realtà non ho mai imparato a leggerli l'unica l'unica volta che sono stato affascinato da una persona che leggeva i tarocchi era un mio caro amico che leggeva quel metodo di Jodorowsky per il semplice fatto che il metodo Jodorowsky semplicemente così diceva lui ora non voglio dire castronerie mi perdonerete biasimatemi il discorso è che allora un attimo solo ah sì che Jodorowsky sostanzialmente parla della tua situazione attuale del presente non vuole fare delle vaticinazioni o previsioni di alcun tipo parla della situazione attuale poi tu ti ci puoi ritrovare o meno però è basato molto sui colori ah bello i tarocchi classici non saprei aiutarvi dovrei prima imparare io a farlo bene qua c'è una persona che condivide una sua esperienza a cui mi sento di rispondere perché dice un mio amico ha smesso di andare alle riunioni del CICAP perché prendevano in giro le vecchiette che credevano nella lettura delle carte allora io a Starotte non so niente di questa tua storia però ti posso dire quello che è la mia esperienza le persone che conosco io del CICAP che ho frequentato io che ho visto io con cui ho parlato io con cui ho condiviso i corsi le cose eccetera non si permetterebbero mai di ridere alle vecchiette che credono ai tarocchi piuttosto si metterebbero in prima fila per spiegare alle vecchiette perché sono state vittime di qualcuno che ha voluto invece approfittarsi in maniera cinica di loro quindi io non so i membri del CICAP come tutti quegli esseri umani possono avere un brutto momento possono essere dei cretini come no però io posso dirti che nella mia esperienza questo non si verificherebbe mai e posso dirti anche che chi il CICAP sicuramente lo ha fondato e ha partecipato a renderlo grande si incazzerebbe molto se venisse a sapere che questo è quello che fanno i loro soci quindi io non ho mai visto una situazione del genere se è successo shame on them e probabilmente si sono comportati da cretini non è una cosa comune però perché io non l'ho mai visto non so se tu Vanni hai avuto questa situazione parliamo parliamo innanzitutto sono d'accordo con il fatto innanzitutto cerchiamo di capire che il CICAP nasce da Polidoro e Piero Angela persone che comunque sono a difesa delle persone e non sicuramente si schierano contro quindi e hanno capito che l'unico modo per difendere veramente le persone è includerle e non farle sentire escuse e non deridere e non deridere soprattutto sono consapevoli del fatto che ci sono perché lì sta la forza sono consapevoli del fatto che ci sono tre bacini di utenza il primo è quello che già è convinto e non deve essere convinto sul fatto ad esempio che l'opeopatia è una pseudoscienza ora ne ho detta una forte sicuramente qualcuno mi segue concordo concordo io mi prendo mi prendo le mie responsabilità dall'altra parte c'è invece chi è straconvinto perché degli studi particolari di un medico radiato dall'albo dicono il contrario e sanno che non verranno mai convinti ma in mezzo c'è una fetta di persone che ha un grosso punto di domanda sulla testa e l'unico modo che si ha per avvicinarle è quello di fare una divulgazione sana sicuramente non di prendere in giro le persone e ripeto perché poi non voglio neanche dire chiaramente ah non è successo può darsi che sia successo può essere accaduto però ricordiamoci sempre che parliamo di persone in questo caso non di statuto esatto lo statuto dice una cosa il regolamento dice una cosa chi si avvicina al CICAP lo fa per dei motivi etici particolari che sono quelli di inclusione di distillare la curiosità nelle persone eccetera eccetera di portarli a un cambiamento in meglio di approfondimento invece se il singolo opera in questo modo come diceva Alessandro shame on term io stesso guarda mi prendo le mie responsabilità a me è capitato per esempio dal cuore di pigliare per il culo i terrapiattisti mi è capitato ogni tanto mi faccio prendere anche io siamo umani sbagliamo io mi posso immaginare un contesto in cui uno del CICAP in una serata un po' così abbia detto ah vecchiette che sceme che ci cascano può essere successo non è una bella cosa non dovrebbe succedere l'istituto come diceva Anni di sicuro è contrario a tutto questo anzi anzi quando io ho fatto il corso del CICAP riveleremo queste cose ero un po' più estremo di come sono oggi ero abbastanza cattivo con questa cosa ero molto e più volte sono stato anche un po' ripreso da altri membri del CICAP che abbiamo detto sì però ricordati che lo scopo finale è aiutare la gente non è bastonare non è bastonare più duro che puoi non è blastare il senso proprio al corso di indagatori del mistero la prima cosa che hanno che ha smantellato lo stesso Sergio della Sala è la famosa frase che la scienza non è democratica e lui dice no 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 la scienza è super democratica anzi semplicemente la scienza stessa perché la scienza dà a tutti quanti gli stessi strumenti per poter comunicare però bisogna comunicare con quegli strumenti là perché bisogna creare una grammatica comune affinché uno scienziato dall'altra parte del mondo possa replicare il tuo esperimento e vedere se funziona o meno fare una peer review fare delle verifiche in cieco in doppio cieco così si opera però è democratica perché se Alessandro De Concini trova scopre la cura per il cancro non è perché non è medico allora no se i test di laboratorio gli danno ragione a livello globale mi vinco il Nobel anch'io che sono un linguista me lo vinco il Nobel per la medicina certo certamente ma certo che sì quindi questo è fortuna che c'è la scienza che ripeto è una scetticità omogeneamente distribuita quindi rende tutti disaffezionati dal proprio credo addirittura ci premia se sbufaliamo le nostre stesse credenze certo è perché porta al miglioramento continuo cioè vuol dire anche che non resto non mi fossilizzo su quello che già so che penso di sapere che è peggio ancora ma cerco sempre comunque di migliorarmi ho sbagliato qualcosa o qualcuno che me lo dice e vedo di trovare soluzione però ripeto tornando a quello che dicevamo prima su CK a me viene solo da dire che ho scoperto un'umanità che in realtà non mi aspettavo perché ad esterno prima di entrare io mi aspettavo invece che fossero i canonici nerd scienziati divisivi e invece sono lì a far gruppo con persone che arrivano da fuori che non hanno idea che cos'è l'omeopatia venite che ve lo spieghiamo noi poi voi fatevi la vostra idea non prendete per scontato nulla di quello che diciamo verificate voi certo c'è la famosa campagna chiedi le prove che è una campagna bellissima chiedi le prove è certo è una campagna bellissima oh invece scusami se ti comincio a sparare le domande ma siccome siamo in live da quasi due ore io non mi fermo però vorrei rispondere alla gente c'è Leo che chiede una curiosità che in realtà mi dà un'occasione mi dice sul talk che sta su youtube se si può rivelare dice calcoli le matrici o sono memorizzate anche quelle perché a un certo punto hai chiesto al tizio del pubblico un numero più grande lui aveva scelto 12 dice Leo quindi tu calcoli o memorizzi se si può dire se non si può dire lasciamo il mistero ok no la domanda la giusta risposta sta nel mezzo perché alle volte è più facile calcolarle alle volte è più facile avere delle tabelle già memorizzate ho capito benissimo un'ottima sono entrambe le cose e qui mi aggancio qualcosa sul calcolo rapido ma io non so niente di calcolo rapido è una cosa che proprio non sono capace di anche non so niente però l'ultima volta che ci siamo sentiti al telefono tu hai fatto una cosa strana con me e Andrea cioè che noi dicevamo dei numeri e tu te ne uscivi con delle cose ma possiamo riproporre qualche cosa di simile ah va bene dai ok ok non so chiediamo a chi ci ascolta se può scrivere non leggo messaggi mi leggerai non so scrivete un numero di due cifre il primo che vi viene in mente adesso te ne verranno fuori appena me lo scrivono rispondiamo intanto vado avanti trucchi per associare numeri a parole si parla in particolare di medicina centinaia di dosaggi per chilogrammo associati ai relativi farmaci eccetera io direi conversione fonetica e link method esatto schedario mentale e link method poi dipende se determinate informazioni rischiano di ripetersi di continuo probabilmente è meglio attingere a una conversione fonetica creata ad hoc certo altrimenti lo schedario e l'associazione mi dicono 35 a 35 forse ne ho scelto perché è la reddice quadrata di 1225 oppure perché nella smorfia napoletana è a musica infatti abbiamo anche due chitarre alle spalle oppure perché nella tavola periodica degli elementi di Mendele è il bromo non lo so fate voi sono affari vostri ma è il 17 invece? ah beh il 17 invece 289 chiaramente sempre per rimanere in ambito matematico è la radice quadrata non sto guardando perché sto cercando risposte ma perché Alessandro lo sa devo guardare la mia faccia in un altro monitor allora il 17 allora è il nella smorfia dovrebbe essere ah beh la disgrazia ed è il cloro se non sbaglio ma insomma io non lo so no ma ci sono tante sono alcune sono alcune informazioni che ho legate legate ai numeri ma ad esempio facciamolo sul super calcolo fare quello che fa Arthur Benjamin che è riuscire è un professore di matematica americano che è in grado di calcolare il quadrato di un numero a 5 cifre nel breve tempo possibile ci mette veramente pochissimo tempo e per farlo usa anche la versione monetica perché quando trova si può fare il quadrato di 57.000 più il quadrato di 241 più 2 volte 57.000 quindi al quadrato più il quadrato più 2b questo per calcolare il quadrato e quindi lui quando calcola ad esempio il quadrato non so di 57.000 che dovrebbe essere non lo so credo forse attorno ai 3 miliardi e qualcosa non puoi sbagliarmi in tal caso 3 miliardi 249 milioni cioè vabbè quando trova i numeri inizia letteralmente a fare la conversione fonetica sul momento per poterla fissare passare al calcolo successivo somma le due conversioni fonetiche ho capito e poi fa il calcolo dell'altro è assurdo però diciamo lui non ha anche lì ha addestrato una capacità questa cosa mi affascina un sacco ma ad esempio se volete fare il quadrato più facile che c'è ma quello di 35 ad esempio è interessante perché 35 è la radice quadrata di 1220 un numero finisce per 5 questa è una regola basile il discorso è che io calcolo il numero da sinistra verso destra e non il contrario provate a fare questo esercizio con me se io vi do ad esempio il quadrato vi chiedo il quadrato di 35 l'unico calcolo che dovete fare veramente consapevoli del fatto che alla fine ci sarà 25 l'unico calcolo che dovete fare è la decina che vi ho dato per quella successiva quindi 3 per 4 che fa 12 quindi 12 più 25 1225 si mettete in coda accanto 25 non più 25 12 e accanto 25 1225 incredibile oppure quindi Alessandro facciamolo con te allora 65 al quadrato è 4225 eh sì esattamente incredibile ma e se invece se invece se invece di 65 è 64 cambia un pochettino la questione ad esempio in questo caso è 4096 ma il calcolo che utilizzi è un po' differente no no va bene comunque è incredibile ci sono degli automatismi cioè io non l'avevo mai fatto in vita mia ci ho messo un secondo ti basta saperlo sì ci hai messo ci hai messo un secondo ma la stessa cosa vale per i resti fenomenali alla cassa noi siamo in grado di calcolarli in maniera molto più rapida rispetto a non so facciamo finta io in tasca 10 euro dimmi un conto che ti devo pagare e ti dico il resto immediatamente io devo pagare 8 euro e 13 centesimi allora come resto tu hai 8 e 13 hai detto 1 e 87 ma lo calcolo da sinistra a destra ti spiego tutto quello che viene prima dell'ultima cifra va a complemento 9 con il numero da cui viene sottratto ok quindi quindi tu hai detto che ne so 8 e 13 giusto? no 8 più 1 fa 9 1 più 8 fa 9 ma 3 per arrivare a 10 devi mettere 7 ho capito ho capito e lo puoi fare con un numero di qualsiasi grandezza ad esempio quando lo faccio fare i bambini gli faccio fare delle sottrazioni atomiche tipo un miliardo meno 727 milioni 841 mila e vedi i genitori che si strappano i capelli quando vedono che il loro figlio calcola da sinistra a destra il risultato è meraviglioso sì 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 perché di base tu sarai d'accordo con me noi parliamo da sinistra a destra leggiamo nella nostra lingua in italiano da sinistra a destra pensiamo da sinistra a destra dal punto di vista cronologico degli argomenti che dobbiamo dire quindi perché quando dobbiamo fare 51 più 844 li sommiamo da destra a sinistra a partire dalle unità più piccole poi salire alle decine poi alle centinaia ci hanno insegnato proprio così non c'è un vero motivo se ci penso non mi viene un motivo solo all'abitudine l'unico motivo che a me è venuto in mente è la paura del riporto perché se tu fai partendo dall'unità andando verso sinistra tu non hai non devi riadeguare il calcolo ai riporti successivi vale per somme sottrazioni e quant'altro banalmente quando calcoli da sinistra a destra è più facile fare le moltiplicazioni che non sono le divisioni perché meno riporti invece ecco i bambini possono capire che c'è anche un modo diverso di approcciare la matematica c'è Flavio che dice la live dei miei sogni vanni a DC e dice che tu gli hai autografato il cubo di Ubik al tuo spettacolo dice pieno di emozioni e adrenalina e dice un professionista sul palco chiede quanto ti alleni abbiamo già risposto prima quindi magari riguardati invece quanti loci hai questo è interessante ah oddio loci in totale allora ho loci in totale credo di averne un migliaio quindi 5 volte meno di Andrea 5 volte meno di Andrea Muzzi ah Andrea 5.000 è arrivato comunque 1.000 è tantissimo lo stesso perché di fatti come ti dicevo prima io lavoro molto di più con gli schedari o comunque quando sei a lungo termine non utilizzi più le immagini ma vai solamente di ripetizione quindi all'italiana come dicevo prima non hai più bisogno di andare in perdere a proposito scusami ti fermo c'è Andrea che diceva 10 minuti fa l'abbiamo perso che ci lascia perché proprio domani parte per i campionati europei e deve fare le ultime cose e si vedrà il resto quindi Andrea domani cioè questo ma scusa Andrea non ti fanno vincere il tavolino senza andare quindi ragazzi questo weekend seguiamo tutti con il fiat speso Andrea perché veramente e tra l'altro qui chiede secondo te potrei riuscire dicono a memorizzare 80 pagine sarebbero indici di libri e quali sarebbero le difficoltà provo a rispondere io secondo me la risposta è sì potresti farlo mi domando quanto senso abbia nel senso nel senso che comunque 80 pagine sono tante e quindi è una memorizzazione che probabilmente per uno che non è un esperto come può essere Vanni o Andrea ti porterà via almeno un mese per come la vedo io 80 pagine e non vedo l'utilità cioè dal punto di vista di uno che insegna a studiare come sono io userai quel tempo per fare qualcos'altro ecco non so come la vedi tu Vanni sono perfettamente d'accordo ripeto io una cosa del genere l'ho fatta perché è diventato un numero di un mio spettacolo dipende dell'utilizzo che devi fare di questa cosa se serve solamente per studiare probabilmente Alessandro questo lo sa meglio di me non c'è un gran senso probabilmente è più efficace fare uno schema Junk dice come memorizzare le cifre del pi greco e direi ancora una volta con versione fonetica e link method con versione fonetica con versione fonetica tutta la vita c'è Fabrizio che dice una cosa molto bella dice ho appena finito di ripassare Leopardi dice bellissimo e toccante devo dire che la poesia di Leopardi sempre colpisce al cuore volevo chiedere che tipo di allenamento hai fatto per imparare le tecniche di memoria l'abbiamo già detto ti faccio una domanda un po' più specifica hai anche comprato dei libri particolari oltre diciamo tu parti molto anche dal passato ricordo che avevo chiesto io ad Andrea Muzzi in live se lui si rifacesse alle tecniche del passato lui aveva detto praticamente che no che lui se l'era imparato tutto su youtube invece tu hai un approccio differente qualche librone qualche risorsa importante del passato o del presente che ti senti di consigliare a tutti ah oddio ah beh ma ragazzi allora ce li ho qui sbattuti da qualche parte sicuramente il Deoratore di Cicerone partendo veramente dalle basi ma solamente per capire come pensavo un uomo dell'epoca perché io faccio un tipo di ricerca storica e di evoluzione storica delle tecniche della memoria perché poi chiaramente ne parlo nelle mie conferenze però insomma libri che veramente mi hanno aiutato tanto sulla memoria l'arte di ricordare tutto storici storici posso dirvi uno che sto leggendo ora sicuramente ma più che storici guardate perché se dovete leggere un libro storico della memoria dovete sapere sovente il francese o il tedesco perché o l'inglese ma neanche tanto l'inglese più il francese perché tanti trattati di diletti matematici a partire da Jacques Osanam attorno a 1696 piuttosto che Pierre Rigon il cursus matematicus sono scritti tutti in francese quindi se sapete la lingua bene è una bella scoperta altrimenti no io non conosco bene il francese sto facendo un po' di fatica ma i libri che invece potete leggere per andare ad attingere da chi ha fatto questa ricerca prima di voi e la riporta in maniera splendida uno ad esempio questo ce l'ho è il mio libro feticcio e sono estremamente innamorato da un malato mentale perché ogni pezzo come Leonardo da Vinci ogni pezzo in pagina faccio numeri cifre e cose scrivo al contrario storia della memoria bellissima storia della memoria di Malone l'hai letto? no non l'ho letto infatti adesso bellissimo è un libro che conoscono in pochi ed è alla segua del libro della Yates e che altro aggiungere se non adesso a breve mi infilerò nella lettura di questo libro The Book of Memory è un libro dell'università di Cambridge se non sbaglio ed è un libro che tratta delle tecniche di memoria nell'epoca medievale però sono tutti i testi ripeto scritti in lingua straniera però la Yates già vi fate un bel regalo Malone anche lui un bel regalo sono i testi di consiglio c'è Aurelio che sottolinea che l'omeopatia è stata dimostrata inutile Aurelio noi siamo anche noi da quella parte lì abbiamo scherzato forse ci siamo spiegati male anche noi siamo contro chiedo scusa vuol dire pagare lo zucchero 2150 euro al chilo lo sconsiglio più che altro per il portafoglio almeno credo sia un buon motivo per evitare di prendere oscillococcinum e farmaci omeopatici ecco e invece qui ti chiedono l'abilità di scrivere sotto sopra perché ti abbiamo visto fare anche questo l'abilità di scrivere sotto sopra questa arriva sempre da Eric Khan perché lui era un multitasker che scriveva più cose contemporaneamente anche al contrario e semplicemente ho dovuto imparare una nuova lingua un alfabeto che non esiste ho dovuto impararlo scrivendo prima dal dritto in carattere corsiva con tutti i legati quindi quando tu scrivi on è diverso da no vi è diverso da iv però diciamo la soddisfazione bella è quella che poi chiaramente ogni cosa che studio poi sono un mezzo malato mentale ma non sono più di tanto pirla declino sempre lo spettacolo quindi cerco sempre di divertirmi e di divertire bene 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 vediamo qualche altra domanda ah tra l'altro qui subentra anche diciamo un altro un altro argomento di cui di cui ti volevo fare mi aggancio all'ultima cosa che hai detto la difficoltà poi di trasformare queste tecniche che di fatto sono qualche cosa di molto poco spettacolare nella dimostrazione è lì che memorizza invece in qualche cosa che intrattiene questo è quello che a me ha colpito la prima volta che ti ho visto fare perché quando io ti ho visto risolvere il cubo di rubik ti ho visto fare il quadrato magico ti ho visto declamare i versi eccetera per ciascuna di quelle cose ho pensato ok se io lo so fare meno bene di lui però se mi allenassi per magari un anno sarei in grado di farlo quello che mi ha colpito che non riuscirei a fare probabilmente in una vita è renderlo bello da vedere cioè che è una cosa incredibile cioè lo dicevo la prima volta che ci siamo sentiti te l'ho proprio detto cioè quando tu interagisci col pubblico mentre fai queste prove di memoria incredibili o di calcolo eccetera è lì che si vede la differenza tra te e un altro perché anch'io posso risolvere il cubo di rubik ma farlo in maniera che sia accattivante per mille persone che ti guardano e quello è incredibile come ti approcci a dire trasformo queste che sono cioè io quando vedo Andrea Muzzi memorizzare non è bello lui è lì così concentra come ti approcci all'idea di renderlo qualcosa di bello di appetibile di entusiasmante è il motivo per cui ti dicevo prima dal momento in cui decido di ah vorrei portare questo numero in scena al portarlo alle volte passa anche un anno perché potenzialmente gli esercizi di memoria rischiano di essere ricondotti tutti a degli esercizi di stile quindi ah ti faccio vedere come scimmietta ammaestrata quanto sono bravo a fare questa cosa quanto sono figo e basta in realtà la cosa che che fa sicuramente la differenza è il percorso attoriale teatrale alle spalle ho fatto tanto teatro di strada o mi sono esibito per tantissimo ma veramente tanto tempo sono 13 anni a questa parte che mi esibisco non sono consumatissimo ma sto imparando poco poco per volta e il fatto è che per rendere queste cose interessanti fatta una certa tu devi anche sganciarti e metterti in mano non un regista qualcuno che veda esatto la tua presenza scenica che ti dica questo funziona questo no e quindi la mia salvezza è stata anche quella di avere un ottimo regista quest'anno ne ho avuto un altro ancora anche lui un altro illuminato Marco Lorenzi che mi ha fatto vedere come infilare le performance dentro la parte di prosa teatrale però ripeto il lavoro è tanto e lungo e alle volte butti via un sacco di roba perché ti hai innamorato di un sacco di cose ma piacciono a te e il regista ti dice ma sta roba il pubblico non dà niente di più è molto meglio un silenzio che non memorizzare che ne so quelle cifre lì e dico va bene che ti devi affidare a un certo punto esattamente sì sì il lavoro è tanto è di ricerca e la cosa che secondo me dicevi bene prima che passa probabilmente è la narrazione io mi sono dato un obiettivo che è quello di io parlo degli artisti cioè i miei numeri o meglio ancora le mie apparizioni dovrebbero stare in piedi anche se io non mi esibissi perché un po' la Federico Guffa non so se lo conosci sì sì certo Federico Guffa ragazzi il suo video su Michael Jordan lo guardo almeno una volta al mese è un mostro su Tesla addirittura ha parlato di Tesla cioè tu pensi magari parla uno scienziato qualunque cosa di cui parla è entusiasmante quell'uomo è incredibile è bravissimo sa mille lingue quando parla ma la stessa cosa è di Alessandro Barbero sono persone che sono talmente dentro che non hanno neanche bisogno di proiettarti una slide che sono in grado di ricamarti quello che sta accadendo nella loro mente davanti agli occhi e se devo puntare a qualcosa probabilmente io devo puntare a quello la prima cosa che mi è stata detta dal mio regista è stata cerca di non essere il miglior mnemonista scusa cerca di non essere il sì il miglior mnemonista al mondo ma di essere il buffa della memoria ah beh è un bellissimo modo di metterla esatto e questa cosa mi ha fatto cambiare anche l'approccio quindi sulla narrazione sulla ricerca storica grazie a Mariano Automatis che non smetterò mai di ringraziare Raul Cremona Raul Cremona tra l'altro è bravissimo è bravissimo è uno storico della magia fra l'altro pazzesco ma poi si tende a pensare che quando i maghi sono un po' comici siano meno bravi invece sono più bravi cioè i maghi i maghi comici sono sono geniali Raul Cremona è una persona eccezionale vabbè insomma io per esempio io mi riconduco questa cosa della narrazione mi fa sempre venire in mente la stessa cosa quando mi chiedono ovviamente è un'opinione personale però quando mi chiedono chi è secondo me il più grande mago del ventesimo secolo io ho sempre una risposta in mente ed è David Copperfield e perché secondo me è David Copperfield è David Copperfield perché lui nel numero del volo non inizia volando inizia con il falco inizia con il farti capire il sogno della bellezza dell'uomo che spicca il volo come un animale maestoso e ti racconta una storia e poi si vola ed è incredibile ed è magico ma c'è l'atmosfera c'è la musica c'è il racconto c'è la narrazione c'è la presentazione se lui semplicemente in mezzo al palco si alzasse e volasse è bravo però finisce lì ce ne sono altri illusionisti che possono fare questo ma quello che fa David Copperfield con quel numero è qualche cosa cioè io il numero del volo di David Copperfield è la cosa più bella che io abbia mai visto onestamente cioè perché passa addirittura in secondo piano la magia cioè è talmente bello quello che lui ti sta mandando che quasi il metodo magico è quello che ti importa meno che è incredibile altrettanto chiaramente però certo certo paradossalmente poi quando ci pensi a posteriori ti dici come caspita fatto ma sul momento la cosa che passa è che la magia deve essere a servizio del percorso drammaturgico non può essere fine a se stessa lì parliamo di teatro di fatti Copperfield è un attore era ballerino un teatrante pazzesco Raul Cremona è un bravissimo attore ma tanto bravo ma tanto io ho visto fare anche ruoli impegnati è tanto bravo e quindi queste competenze sono quelle che fanno la differenza non tanto quelle tecniche ma più quelle capaci di portare in scena il personaggio eccetera veramente c'è Tony che non concorda con me dice che per lui il più bravo prestigiatore è Juan Tamaris che è un altro maestro delle carte ha inventato la mnemonica la conosci la mnemonica di Tamaris certo certo la mnemonica di Tamaris ha fatto la storia quel testo è incredibile sì 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 Tamaris è un altro grandioso però ecco intanto parliamo di carte quindi parliamo di close up chiaramente quindi di una cosa diversa dalla grande illusione però comunque sì assolutamente io amo Tamaris tantissimo ho un altro qualche domandina ancora allora chiede a tutti e due Fabrizio quando avete scoperto le mnemotecniche all'inizio le applicavo senza problemi il mio primo esercizio fu ricordare le ultime 22 terzine del quinto canto della commedia quindi ci riusciva bene dopo un po' non sono più riuscito ad applicarle e le ho abbandonate è successo anche a voi è una mia esperienza o vale anche per altro spero di essere stato chiaro grazie Fabrizio rispondo prima io poi ti faccio parlare a me dunque è successo no non è successo così non con le tecniche di memoria però mi è successo con altre cose che ho imparato capita che arriva un punto in cui la curva di apprendimento improvvisamente diventa un po' più ripida e quindi tu interpreti il fatto che improvvisamente fai più fatica a migliorare con il fatto che non ti riesca più e ti blocchi e abbandoni quando invece avresti dovuto forse continuare con le tecniche di memoria non mi è successo perché mi sono appassionato tantissimo io lì per tipo sei mesi ho fatto quello tutto il giorno tutti i giorni quindi non mi è successo però mi è successo in altri ambiti sì mi è successo in altri ambiti con la giocoleria mi è successo per esempio c'è stato un momento in cui mi pareva che mi cadessero sempre le palline o io ho fatto lo yo-yo ho fatto il devil stick ho fatto varie altre cose e con la giocoleria arriva sempre quel momento in cui mi dico ah non ci riesco più non sono capace mi cade costantemente e non è vero è che hai cominciato a diventare abbastanza più bravo da provare delle cose più difficili e quindi il fallimento la quantità di fallimento aumenta e la male interpreti almeno secondo me questa è la mia interpretazione cosa ne pensi tu Vanni? sì sono non posso aggiungere niente di più interessante di quello che hai detto tu finora ti è capitato? allora ma all'inizio forse sì proprio per quel fattore di entusiasmo magari è capitato con le tecniche di memoria magari quando dopo che ho passato la conversione fonetica gli schedari mentali un po' la testa voleva anche sapere se c'era dell'altro però il prezzo da pagare era tanto ecco allora non mi sono impegnato più di tanto agli inizi per fare quel salto lì che magari prevede il fare un metodo PAO piuttosto che uno schedario di mille in mass sì non sei salito al livello successivo esatto il problema è che poi salire i primi livelli è un attimo come nei videogiochi come risolvere il cubo di Rubik metodo a strati ok fino a che arrivi il F2L poi dopo quando vuoi fare l'OLL il PLL ti devi memorizzare una fracca di algoritmi eh sì chi è disposto a farlo io mi sono bloccato lì io mi sono bloccato io sono arrivato ai 30 secondi con il metodo a strati e poi poi basta il mio record è 28 secondi posso dire eh perché non è male con il metodo a strati non è male posso dire al ragazzo che ha fatto la domanda trova magari un un escamotage motivazionale mi verrebbe da dire per utilizzarla cioè qual è il fine no se il fine è quello di studiare e basta non lo so se è quello di di incuriosirti in più se è un argomento che ti appassiona giocarci allora sfrutta quell'argomento che già ti appassiona per metterci dentro le tecniche di memoria eh vedere che cosa cambia magari scoprirai qualcosa che ti puoi portare anche in altri contesti eh giocarci renderla qualche cosa che ti che ti come dire ti ti permia la vita diventa più che un'attività che ti metti lì e la fai diventa più un gioco io racconto sempre questa storia non so se te l'ho mai raccontata Vanni è una storia di passione e stupidità mi è capitato ben due volte di io memorizzavo in macchina memorizzavo le targhe delle macchine e mi è capitato ben due volte di tamponare la macchina perché stavo memorizzando la targa e mi sono distratto da allora lo faccio solo ai semafori però ci ho messo due volte per imparare la lezione non una perché perché perseverare umano cioè scusa perché errare umano perseverare da cretini e quindi giustamente io ovviamente ho dovuto perseverare però sì però quello è ovviamente non memorizzate quando siete in macchina al semaforo può andare bene però ci giocavo era una cosa con cui cercavo di passare il tempo quando non per forza mettermi alla scrivania a farlo ma più giocarci ecco quindi questa è una cosa che mi ha aiutato oh memorizzare vocaboli di lingue straniere lo chiedono in più di uno beh la tecnica in realtà è molto semplice tu prendi un'immagine della parola italiana prendi una o più immagini della parola straniera e fai un bel link method no? è molto sì 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 è molto semplice poi c'è un altro schiamotaggio che avevo utilizzato tempo fa che era quello del villaggio della memoria così si chiama sostanzialmente l'ho l'ho imparato quando ho visto invece il mio coinquilino cinese quando vivevo a Torino che continuava a mettere post-it su qualsiasi cosa con il vocabolo italiano quindi lui ogni volta che andava allo sportello vedeva che si chiamava sportello e lo ripeteva era una sorta di sistema Leitner non così pianificato non pianificato però era intelligente come sistema e sono andato a cercare sostanzialmente esiste una tecnica chiamata villaggio della memoria dove noi possiamo ricostruire gli ambienti degli ambienti specifici che ci fanno quasi da etichetta da contesto ad esempio il museo e noi possiamo all'interno di un museo mettere tutti i vocaboli agganciarli ai relativi quadri non lo so oppure strumenti agganciarli con il link method oppure all'interno di un ospedale come si chiama bisturi allora posso letteralmente iniziare a crearmi una sorta di palazzo della memoria che però serve solamente per la conversione dei vocaboli di lingua straniera specifica è una cosa che è utile secondo me quando poi uno vuole iniziare a diventare poliglotta o comunque fa un percorso dove deve conoscere tante lingue ad esempio di interprete il fatto è che se io creo sempre la stessa associazione panino sandwich non lo so boccadiglio qualsiasi cosa il fatto è che poi le immagini rischiano di sovrapporsi probabilmente immagini di lingue diverse si se devi fare tante lingue si se devi fare veramente tante si il forse avere un contesto non so prendersi la scusa vado a Londra e vado al mercato aperto a Londra e mi faccio il palazzo della memoria su questo mercato qua poi vado al National Museum vado alla National Library trovate trovate come scusa la visita di un posto che non conoscete per poter creare un nuovo villaggio della memoria in modo tale da sapere che quando vado che ne so in quando vado in Ungheria le patate sono Solon e quando vado in Inghilterra il mercato inglese mi dice poteto chiaro se le associazioni sono diverse perché cambiano i contesti che me le vanno a richiamare invece conosci il metodo dei colori sarebbe la conversione fonetica solo che ad ogni numero corrisponde un colore io non lo conoscevo però mi sembra estremamente inefficace tu lo conosci? sì ho letto un manuale che girava tempo fa mi viene da dire che secondo me è il tentativo di trasposizione di quello che vede un sinesteta però è complicato no non mi ispira ma di fatti non funziona tantissimo ripeto se nel 1825 Meparie ha pubblicato il primo sistema di conversione fonetica la prima pubblicazione ma prima di lui ci sono stati sistemi di forma che sono stati adottati dai commercianti che ne so per ricordarsi il numero 7 usavano una falce allora o hai veramente qualcosa di sensazionale da portare negli anni 2000 altrimenti davvero non so questo sistema col colore non l'ho trovato efficacissimo no 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 anche perché i colori non sono poi così inequivocabili inequivocabili come pensiamo quindi il rischio di prendere un rosa per un rosso o prendere un arancione per un no è un po' complessa la situazione c'è Giulione che fa due domande interessanti alla prima rispondo molto velocemente perché dice è vero che se dormi con delle cuffie con le quali ascolti la lettura di un libro per esempio di scienze ti svegli sapendo tutto e qui eccolo qua ecco qua Vanni che vi risponde per lui no l'apprendimento subliminale non funziona l'unica cosa che è vera è che ti svegli che hai dormito male perché le cuffie danno fastidio e per di più la gente parla e quindi dormi no quindi quella roba lì dimenticatevi l'apprendimento subliminale non esiste invece la seconda domanda di Giulione è interessante dice quando mi presento ad altre persone mi scordo sempre i nomi come faccio a ricordarli allora a parte la tecnica di memoria ci sono delle tecniche di memoria però io direi vediamo se Vanni è d'accordo con me che gran parte dell'elemento è una questione di attenzione più che di memoria che noi non stiamo attenti perché quando ci presentiamo alle persone stiamo pensando ad altro se ci presentiamo al capo pensiamo all'aspettativa che abbiamo del lavoro se ci presentiamo al cliente pensiamo alla vendita se ci presentiamo alla ragazza pensiamo a un sacco di altre cose e in ogni caso pensiamo a tutto meno che al suo nome un trucchetto che io consiglio adesso sono contento di poterlo dire a Vanni perché svelerò secondo me un segreto ed è un trucchetto dei maghi e comunque dei performer è quello di immediatamente ripetere il nome della persona che si presenta per cui quando tu vedi uno spettacolo di Vanni o di chiunque altro che invita uno sul palco dice come ti chiami Marco piacere Marco sono felice di averti qui ciao Marco allora Marco spostati in quella parte del palco grazie Marco bene torno da te fra un minuto è vero o no? è verissimo è verissimo è verissimo e guarda fra l'altro una cosina che aggiungo perché dici tutto giusto prima ancora delle tecniche di memoria l'attenzione diciamo il nostro nome sopra quello dell'altro e facciamo due danni il primo che non abbiamo ascoltato il suo ma lui non ha ascoltato il nostro quindi proviamo a metterlo alla prova e chiediamo ti ricordi come mi chiamo o vi dirà di no l'altra cosa che sto notando è che noi alle volte ci diciamo ma io non mi ricordo il suo nome ma sai che in realtà sto qua non ce l'ha neanche detto ah davvero questo non è vero poi abbiamo un bias cognitivo in questo che pensiamo dopo un po' sto qua non mi ricordo come si chiama ma tanta gente quando si presenta ti stringe la mano e ti dice piacere e quando ti dice il nome dici ma mica me l'aveva detto il nome perché comunque ok non te lo ricordi ma in un qualche modo la testa registra se da quella bocca è uscito il termine Paola piuttosto che Antonietta perché se ti ha detto piacere Antonietta non te lo ricordi ma ti dice Fabiola ma forse un click davvero sì 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 ma tante volte noi ci facciamo colpe che non abbiamo tipo caspita non mi ricordo il nome no non te l'ha detto quindi proprio perché si parla di attenzione a me capita sul palco perché una delle paure più grandi al mondo è l'ansia di parlare in pubblico e di essere chiamati sul palcoscenico agli spettatori chiedo proprio come anzi piacere Vanni piacere come ti chiami ma proprio come ti chiami ok esplicito quindi esplicito nel mio caso è perché poi chiaramente per l'intelligibilità per potermi presentare e per poter rendere amichevole la situazione sul palcoscenico continuo a chiamare Marco col suo nome però vi dico fate piuttosto la figura del sordo dite ti chiedo scusa mi hai detto il nome ma ti ho detto il mio sopra perdonami me lo vuoi ripetere questa cosa in realtà crea un'empatia pazzesca piace piace anche perché piace perché nessuno si permetterebbe mai di venire là a dire anzi perché ci facciamo sempre dei problemi che in realtà non dovremmo avere ad esempio questo di ah ma che figura faccio no fa la figura di un essere umano che ha una memoria fallibile come quella di chiunque altro e non era attento sì e quindi questo è una domanda super off topic la fanno a me ma poi la giro anche a te a me chiedono se seguo One Piece e altri manga e io sì seguo One Piece seguo un sacco di manga leggo un sacco di fumetti di tutte le nazionalità i miei manga preferiti vediamo forse il mio manga preferito di tutti i tempi oddio è dura da dire ne ho letti veramente tanti forse 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 aspettate sto facendo un po' di di scrematura forse per motivi di affetto il mio manga preferito di tutti i tempi è boh forse forse addirittura Dragon Ball anche se in realtà nel genere nel genere shonen ho letto di tutto chiaramente i classici vabbè Kenshin Samurai Vagabond è uno shonen che non in tanti conoscono e che mi è molto piaciuto poi i grandi classici Akira Devilman ce ne sono tantissimi devo dire che leggo molti manga non sono i miei forse la mia nazionalità preferita i miei fumetti preferiti sono probabilmente quelli inglesi adoro Alan Moore quella gente lì e tu invece Vanni leggi i fumetti? allora non tantissimo no devo dire la verità no non leggo fumetti ero un genito lettore di Topolino vabbè Topolino è stato il primo il primo fumetto che ho letto e l'ho sempre preferito ai manga più che altro mi sono appassionato a determinati anime ad esempio Inuyasha Traigan bello Inuyasha Traigan è anche bello mi hanno proprio appassionato ma credo di aver comprato il mio primo manga proprio perché di solito me li facevo prestare il primo manga che ho comprato è stata la Divina Commedia di Gonagai uh ma che bello cioè Gonagai abbiamo nominato Devilman ma ne ha fatti tantissimi Gonagai è uno dei maestri non potevo non prenderlo perché era lì che mi guardava Luca Comics ho detto lo acchiappo subito al volo bene 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 poi vediamo qualche altra domanda dunque quando mi trovo ad affrontare una definizione da sapere a memoria abbastanza lunga cosa mi conviene fare Cristian ti conviene individuare le parole chiave per memorizzarle e poi mandarla a memoria concordi Vanni cioè tu scegli le parole prima di memorizzare qualche cosa oppure vai proprio parola per parola compresi gli articoli no no è la follia soprattutto se parliamo di un almeno nel mio contesto di un copione ma tutto ciò che ha carattere concettuale voglio dire anche un copione a meno che non sia Shakespeare sempre aperto a modifiche e interpretazioni quindi prima entri nel concetto lo rielaboro e poi dopo trovo quelle parole chiave utili che mi aiutano poi a ricostruirlo e se c'è proprio bisogno di impararlo impari le parole chiave poi quello che c'è in mezzo lo puoi anche creare cioè poi oddio se è una materia tecnica particolarissima ad esempio ieri ho tenuto un corso di formazione sul decreto legislativo 81 del 2008 leggi come testo unico sul lavoro il discorso è che ci sono alcune parole che devono essere quelle e non altre un po' come che ne so generato non creato dalla stessa sostanza del padre per rimanere in tema religioso una parola lì e non l'altra perché ci sono per carità ma alcune cose sono danno spazio interpretazione o comunque danno sì possono essere legate attraverso parole chiave piuttosto prendo quella parola tecnica la faccio diventare una parola chiave quello sì chiaro bene 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 poi non so cosa ne pensi tu sempre Alessandro per me è correttissimo è così invece c'è una domanda ecco questa secondo me è veramente interessante perché dice Sical dice come faccio a inserire un'incredibile vastità di argomenti e di parole chiave nel palazzo della memoria allora rispondo prima io perché questa è una cosa che mi sta molto a cuore io non sono per niente convinto che sia una buona idea mandare a memoria le parole chiave le parole chiave ci servono per creare i nostri schemi per rielaborare per arrivare a livello concettuale al cuore della questione ma io credo che si debbano memorizzare solo i dettagli tecnici quindi gli elenchi le formule i numeri le date storiche le parole particolarmente complesse eccetera sconsiglio quindi di fare la mappa o lo schema e poi di memorizzare tutte le parole chiave si può fare chiaramente perché tutto si può fare con la memoria però non mi pare una cosa utile tu che cosa ne pensi tu sei a favore del memorizzarsi invece tutte le parole chiave di uno schema per esempio sicuramente è una cosa efficace ma non è efficiente funziona funziona perché l'obiettivo lo raggiunge ci mancherebbe pure ma a che costo eh sì quindi ripeto il discorso è quello io sono un grande sostenitore del metodo Feynman quando ho capito abbastanza di un argomento da poterlo spiegare chiudo tutto esatto e piuttosto guardo il busto di Giulio Cesare qua sulla scrivania perché hai il busto di Giulio Cesare sulla scrivania è per una cosa ci fai è per una barzelletta una storia lunga potete raccontare in privato perché comunque cerco di simulare la situazione in cui mi dovrei trovare in cui mi dovrò trovare e in cui dovrò mettermi alla prova con le informazioni che ho imparato o che penso di aver imparato anche perché finché ho il libro aperto penso di sapere tutto quando lo chiudo sono davanti invece alla realtà dei fatti e il fatto di non ricordarsi determinate cose di non averle interpretate o comprese correttamente è un ottimo strumento di autovalutazione per potersi rimettere in carreggiata e dire ah ecco non sapevo bene quella roba là la ripasso perfetto hai mai sentito parlare di a fantasia esiste davvero persone affette possono usare le mnemotecniche io ci ho fatto un video Leo parecchio parecchio tempo fa sulla storia di di un personaggio che ha scoperto di essere affantasico la maggior parte delle mnemotecniche non si possono applicare con la fantasia è una condizione che esiste la maggior parte qualcuna sì quelle più legate all'aspetto verbale quindi le filastrocche quel tipo di mnemotecniche lì se tu come quando fuori piove no quelle robe lì le puoi fare mentre le mnemotecniche la maggior parte delle mnemotecniche che sono basate sulla visualizzazione quelle purtroppo gli affantasici che ci sono esistono quindi non è una bufala è una vera condizione quelle persone lì non possono purtroppo usarle ti hai mai capito di ma allora mi viene da fare una domanda veramente non so la risposta non so neanche se la sei tu ma possiamo chiaramente approfittare del fatto che tanti ci guardano potrebbero risponderci mi viene quindi da pensare chi soffre di a fantasia non riesce neanche utilizzare prima domanda i loci di cicerone sicuramente no e in secondo luogo sempre per citare cicerone secondo luogo chi ha a fantasia a questo punto mi viene da pensare ha anche un pessimo senso dell'orientamento questa seconda non la so quella sui loci di cicerone ne sono sicuro perché se ne parlava proprio in un articolo che avevo letto perché la fantasico è in grado di non è in grado cioè se chiude gli occhi non riesce a vedere la tua faccia io adesso chiudo gli occhi mi immagino vanni lo vedo nella mia mente vedo la barba vedo la cosa la fantasico non riesce non riesce proprio a creare un'immagine mentale per cui non riesce a usare neanche i loci di cicerone per l'orientamento questo non saprei dire probabilmente sì o quantomeno se ha un buon senso dell'orientamento ce l'ha in un modo diverso forse più procedurale forse cioè se lo imparo più come vado a dritto poi vado a destra cioè se lo immagina più come un algoritmo oserei dire che non come un forse no potrebbe essere una partitura fisica sì si può essere potrebbe essere questo vediamo un po' di domande ragazzi siamo due ore e trenta cioè quindi facciamo l'ultima se sei d'accordo Vanni io andrei avanti anche sei ore maratona mentana levati muto mentana muto io direi che facciamo la carrellata di tutte le domande che ci sono e poi ci salutiamo e poi e poi naturalmente e poi naturalmente tornerai così così mi sono già assicurato i prossimi le views bene allora vediamo con le domande dunque ripassi di materie tecniche con concetti più formule se uso le mnemotecniche devo ripassarle più frequentemente rispetto te la faccio breve le mnemotecniche servono fare più meno o le stesse ripetizioni programmate o ripetizioni leitner del delle domande o delle altre forme concettuali di apprendimento oppure cioè quindi è uguale ne servono di meno ne servono di più ah ok ma forse lavorano su due livelli diversi le mnemotecniche servono per digerire in fretta delle informazioni complesse invece il sistema leitner secondo me è totalmente indipendente il sistema leitner ti dice quando devi passare cosa esatto e quindi quindi eh sì sono indipendenti le due cose a parer mio sì no no quindi io per esempio dico che è possibile che con le tecniche di memoria ci si ricordi ci sia teoricamente meno bisogno di ripetizioni ma siccome non te lo ma siccome non lo puoi non puoi essere sicuro la cosa più sicura da fare è comunque ripetere con le ripetizioni programmate così come sono e così ti assicuri che non sbagli certo 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 anche perché vabbè chiaramente se tu hai memorizzato un mi viene a pensare sempre nell'ambito giuridico c'è una parte concettuale e una parte invece nuda e cruda che è l'articolo che ne so è l'articolo 18 della legge 431 del 98 e va bene ok devo sapere questi numeri li devo ripassare magari io ho bene a mente la parte concettuale però non la parte numerica il sistema Leitner mi serve per ripassare entrambe le cose chiaramente la tecnica di memoria è il sistema più efficace ed efficiente per poter memorizzare i numeri mentre invece magari un metodo Feynman è quello più efficiente per la comprensione certo benissimo benissimo direi che sono perfettamente d'accordo oh c'è Tony che ci fa una bella domanda contro i nostri interessi quindi siamo pronti dice contro i nostri interessi quindi ci vuole ci vuole rubare il lavoro Tony e dice io sto in Sicilia dice Tony dice sono anch'io un appassionato di metodo di studio tecniche di memoria eccetera come potrebbe diventare un lavoro allora io ti do la mia la mia la mia cosa il lavoro che faccio io per esempio è composto da due parti la prima essere molto competente su questi argomenti la seconda è essere capace di comunicarli che sono due cose completamente differenti e attenzione perché uno può essere competentissimo e non essere capace quindi io direi Tony che se tu vuoi fare questo tipo di lavoro devi per prima cosa essere competente ma competente davvero se vuoi insegnare alle persone le cose non ti basta essere un appassionato devi studiare e sapere le cose bene e dopo una volta che sei consapevole le sai applicare le applichi su te stesso eccetera eccetera ti devi allenare nell'esposizione ti devi allenare nella comunicazione nell'insegnare agli altri quando sei capace di fare queste due cose a quel punto cominci a insegnare agli altri e vedi se la cosa prende piede può pian pianino diventare un lavoro come è successo per me io lo racconto sempre non sono partito dicendo ora faccio questo di mestiere io ho cominciato a insegnare queste cose alle ripetizioni che facevo i ragazzini ai miei amici e così e da lì e dopo un po' a un certo punto è capitato per caso quindi accumula competenze c'è un concetto che io applico moltissimo adesso Vanni vediamo se anche tu sei d'accordo che mi piace davvero che è desunto da un libro che si chiama So Good They Can't Ignore You e il concetto è diventa così bravo che non ti possono ignorare questo è il mio consiglio vediamo cosa dice Vanni invece e non posso aggiungere niente di più interessante di quello che hai detto tu lo dico sinceramente perché lo spaccato è identico ma vale per chiunque grande competenza predisposizione al continuare a mettersi in gioco e a migliorarsi e l'altra cosa il comunicare ad esempio io ho due rami in cui comunico il primo è il ramo quando sono già sul palcoscenico devo saper comunicare bene e usare bene la parola come mezzo strumento e l'altra parte invece la comunicazione intesa come comunicare attraverso i social con un piano editoriale ecco questa parte a me manca la sto demandando fra un po' ad altre persone specializzate il discorso è per l'appunto siccome io riconosco di non essere competente in quella cosa la demando ad altri in modo che io possa continuare a essere competente nel mio quindi il consiglio è se tu un domani vuoi farlo diventare un lavoro devi esattamente capire che cosa vuoi dare sempre in termini di valore e anche capire che non puoi fare tutto differenziarti anche anche questo è importante differenziati differenziati sicuramente cioè se tu diventi un clone di Vanni o un clone mio non farai successo se tu invece trovi il tuo modo di usare queste cose ci sono mille modi di declinare tutto questo allora lì forse avrai successo se copi non va bene se ti ispiri va bene cioè esattamente esattamente no questo bene 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 ok andiamo avanti leggere i libri in inglese può essere una scelta vantaggiosa se non si può viaggiare all'estero immergersi nella lingua a 360 gradi senza viaggiare direi proprio di sì immersione 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 il punto non è dove ti trovi fisicamente geograficamente il punto è usare la lingua quindi più la usi meglio è qual è il vostro scienziato preferito questo è interessante mio scienziato preferito allora rispondo proprio alla parola scienziato perché se dovessi dire divulgatore direi delle altre cose probabilmente il mio scienziato preferito io sono un linguista il mio scienziato preferito il mio cuore è a forma di Noam Chomsky e quindi probabilmente quello potrebbe essere oppure Richard Dawkins che è un altro grande forse è una battaglia dura tra i due eh beh me l'hai diciamo che dice ah cavolo scusami pensare un altro ti lascio due secondi siamo sulla stessa barca ti lascio un minuto per pensarci diciamo che per me per me è coso Noam Chomsky è quello che ha creato la linguistica moderna e quindi per uno che ha studiato linguistica è un po' il padre anche se poi magari certe teorie si sono aggiornate eccetera Richard Dawkins Richard Dawkins dai ti passo la palla Richard Dawkins dici qualcosa tu Vanni su questo personaggio io non lo so non so cosa devo dire tutti i suoi link lo amo lo amo no io direi più ah no scusami cosa mi hai chiesto il personaggio che piace a me scienziato preferito e poi di dire qualcosa su Richard Dawkins visto che anche tu lo volevi nominare ah ok ma oddio una persona talmente grande che ho difficoltà a parlarne Richard Dawkins è stata la prima persona che forse mi ha instillato inconsapevolmente l'importanza dello scetticismo ah sì ha un occhio assolutamente da un certo punto di vista sì agnostico ho visto però un'intervista con Darren Brown dove lui si riteneva comunque anche abbastanza possibilista che sempre quell'apertura di una cosa accade si verifica io sono perfettamente aperto a modificare il mio punto di vista ma solo che poi le cose non accadono sì 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 paradossalmente lui non è affatto un estremista dell'ateismo cioè lui si classifica lui è non so se lo sapete ma Dawkins è stato uno dei più prominenti nuovi atei cosiddetti nuovi atei Sam Harris Daniel Dennett ma che ne so chi altro ci mettiamo dentro ci mettiamo dentro Hitchens insomma quella gente lì Lawrence Krauss keeping up in meta e Dawkins ha creato la cosiddetta scala Dawkins dove il livello uno è il livello del credente totale cioè quello che è sicuro che esista Dio e il livello sette è il livello del ateo totale cioè quello che sa per certo che Dio non esiste Dawkins che è il creatore della scala si pone a livello sei cioè sono le prove mi dicono che molto probabilmente non c'è una divinità ma non è un integralista se domani scende Maomento o Buddha o chi per lui e si dimostra e Dawkins sarà probabilmente il primo a convertirsi ecco esattamente perché è quella cosa che dicevamo prima che la responsabilità sta alle prove non sta alla presa di posizione personale sui propri pregiudizi sono le prove che devono in un qualche modo veicolarci e guarda poi parlavi anche di divulgatori io poi magari per un discorso troppo grande però devo rispondere velocemente alla domanda ragazzi quanto bene stanno facendo i divulgatori anche soprattutto italiani in questo periodo Luca Perri Bressanini Bressanini lo amo Massimo Pulidoro persone straordinarie che hanno capito l'importanza di quello che diceva prima Alessandro ovvero della comunicazione eppure Bressanini anche la divagatrice Beatrice Mautino sono tantissimi Bressanini aveva già un blog da un sacco di tempo ma quando ha capito coscienziosamente che la comunicazione si stava spostando su un mezzo come Instagram prima Facebook eccetera ha smesso ha iniziato a parlare di cose diverse no ha sempre detto le stesse cose ma ha cambiato il suo modo di comunicare oggi i divulgatori stanno facendo un lavoro straordinario perché oltre a divulgare bene intrattengono hanno capito quanto sia importante come dice sempre Piero Angela ludendo docere non si può sfuggire sono troppo interessanti app che usi sul cellulare oltre a Anki altre app che hai sul cellulare che possono tornare utili a chi vuole memorizzare fare brigare guarda le guardo al volo perché allora una è Memrise l'altra è una è una che è veramente da nerd si chiama Verba Team 2.0 ma in realtà non è un'app andate su no mai mai andate su un sito internet scrivete Scott Scott con la doppia t cram scott cram scott cram e poi scrivete Verba Team 2.0 lui ha creato una sorta di app un sito in realtà per poter memorizzare facilmente i testi ad litteram le poesie fa una sorta tu metti dentro che ne so il sonetto di Shakespeare e poi ti continua a fare effetto testing ti mette che ne so una porzione di parola tu la devi completare è interessante un altro è Memory Assistant che oltre ad avere delle tecniche di memoria scusate parla di tecniche di memoria e ha come io ho un android come Thumbnail ha un elefante poi c'è Memory Ladder quindi tipo scala della memoria e poi ho i miei training personali che sono i training dei due spettacoli teatrali uno Valzer per un mentalista e l'altro Prodigi ma in realtà non sono applicazioni sono ripeto come dicevo prima dei siti internet ad esempio random.org che mi consentono di di avere so liste sequenze di parole di numeri casuali la domanda più bella di tutte ma siete ancora qui? che sei benissimo sono quasi tre ore la chiudiamo record col cubo di Rubik il mio personale credo di aver fatto 20 secondi no 25 bene quanto bisogna allenarsi per velocizzarsi nel calcolo mentale per fare la spesa con la moglie tantissimo all'infinito dipende guarda io pagherei per avere una moglie che ti fa fare tanti calcoli piuttosto che una che te ne fa fare uno solo da 5 a 0 aspetta solo un secondo ho perso un attimo la ho perso la quindi non lo so guarda però ti auguro di avere tanti piccoli calcolini da fare ecco benissimo e l'ultima domanda una cosa che ti può aiutare è quella di avere sempre il resto esatto scusa di avere sempre il resto quindi da 50 da 100 ti fermo un secondo perché c'è la live che sta crescendo la tua immagine continua a cambiare di dimensione il software non sta reggendo più la questione non si vede più aspetta aspetta solo un secondo perché non so cosa sta succedendo c'è veramente si è croppata tutta l'immagine ti riesci a spostare per favore un po' di più la tua destra scusami ma non ti inquadra più alla mia destra adesso si scusami ma c'è stato un casino col programma la mandiamo in chiusura l'ultima domanda e poi basta cosa ne pensi di Tesla io ne penso che il personaggio non l'azienda io penso che sia stato un grande scienziato ragazzi la persona è illuminatissima corrente alternata cosa c'è da dire cosa stiamo a parlare bene poi se non era illuminato Tesla mamma mia ecco su questa la chiudiamo adesso spengo tutto e muoio allora fatemi dire un'ultima parola intanto devo dire io non conosco tante persone che si prestano a 2 ore 45 di live soprattutto con la scaletta che ha Vanni che è un uomo non impegnato di più quindi veramente io devo dire veramente grazie grazie nel frattempo la tua immagine continua a impazie cresci di dimensioni ti riduci non importa porteranno pazienza in questi ultimi due secondi comunque veramente grazie di essere stato qui una persona straordinaria con cui non vedo l'ora di collaborare di fare cose ne riparleremo in futuro naturalmente io veramente grazie a voi che ci avete seguito per tutto questo tempo vi lascio la parola per l'ultimo saluto veramente è stata una live bellissima non vedo l'ora di ripeterla e soprattutto andate a vedere il cavolo di spettacolo di Vanni io lo aspetto come si aspetta veramente l'avvento di non so che sono lì che non vedo l'ora sono già pronto a piombare a Trieste e via così Vanni l'ultima parola a te vi aspetto quindi dal 21 novembre al primo dicembre dal 2 al 12 gennaio con questa piccola marchetta è giusta la marchetta con Valzer per un mentalista vi aspetto grazie a te Alessandro davvero dell'ospitalità ti dico sinceramente era da tanto che anch'io volevo avere il privilegio di fare due chiacchiere con te in una tua live perché ritengo davvero il tuo canale un faro per chi vuole davvero imparare chi vuole studiare bene in Italia spero non solo anche all'estero quando vedo che stai facendo i video in inglese abbiamo progetti piano piano questina lente grazie grazie veramente noi ci rivediamo martedì per il prossimo naturalmente intanto scusate nel frattempo tu sei diventato grande come la mia intera live quindi cambio un attimo l'impostazione beh ciao Anni naturalmente saluto anche tutti i nostri amici qui a partita la siglietta stanno succedendo cose che non esistono comunque mi ringrazio per essere stati qui ci vediamo martedì naturalmente sono gli omeopati dice Vanni quindi ci rivediamo martedì grazie a tutti buona serata eccoci qua è successo di tutto Vanni negli ultimi 5 minuti sì ma negli ultimi 5 minuti il programma è impazzito ci sai tu che cambi dimensione cose che succedono io veramente non so che cavolo possa essere successo lo vedi cosa è successo non so